Bene, buonasera. Grazie. Dunque, quest'anno, come sapete, il tema dei nostri tre incontri è, potremmo dire, tutto quello che credevamo di sapere sul Medioevo e che invece non è vero. E' il tema di un periodo storico, il Medioevo, che tutti abbiamo in mente, che tutti crediamo di poter immaginare, a cui pensiamo di poter attribuire un'infinità di immagini, di episodi, di avvenimenti, di situazioni e che però è un periodo che è stato in realtà inventato dopo, in gran parte. Non vi sto dicendo che Carlo Magno non è esistito, ma che tante cose che noi diamo per scontate quando si parla di Medioevo, quando uno va a vedere, invece, sono molto più leggendarie che non autentiche. A dire è vero, quello di cui parliamo stasera è forse, come dire, la cosa meno sensazionale, in questo senso, che quando ho cominciato a raccontare agli amici gli argomenti di cui pensavo di parlare qui quest'anno, ho visto che quando gli dicevo, guarda che lo ius primen octis, oppure l'idea della terra piatta, non è mica detto che davvero nel Medioevo, ecco, vedevo che rimanevano più stupiti. Il tema di cui parliamo stasera, le paure dell'anno 1000, invece è forse un pochino più passato di moda, non tutti forse siamo convinti che ci fossero quelle paure, perfino su internet, quando uno va a vedere e cerchi paure, terrori dell'anno 1000, nella maggior parte dei siti in realtà trovi la leggenda delle paure dell'anno 1000. Quindi forse sfondo una porta aperta e però credo che possa essere interessante lo stesso, andare a vedere come è stata costruita a un certo punto un'immagine del Medioevo che si rivela completamente leggendaria, completamente inventata e a cui invece per molto tempo gli eruditi, gli studiosi hanno creduto, hanno creduto e come? Proprio perché dicevo che è una vecchia storia magari un po' passata di moda, ricordiamolo rapidamente di cosa sto parlando. Le paure dell'anno 1000 non si riferiscono genericamente al fatto che nel Medioevo ci fossero dei movimenti ogni tanto che annunciavano la prossima fine del mondo. Non si riferiscono solo al fatto che per i cristiani del Medioevo il problema di quando arriverà la fine del mondo fosse un problema sentito. Quello non è in discussione. Quando si parla dei terrori dell'anno 1000 ci si riferisce proprio a un'immagine ben precisa all'idea cioè che nel Medioevo pensavano che il mondo sarebbe finito nell'anno 1000 e quindi quando l'anno 1000 ha cominciato a avvicinarsi perché voi capite che queste cose finché le dici nell'anno 750 ma quando l'anno 1000 ha cominciato a avvicinarsi secondo questo racconto la gente ha cominciato a aver paura sul serio e negli ultimi anni prima dell'anno 1000 il mondo si è quasi fermato non aveva più senso mettersi a darsi da fare, fondare una famiglia, lavorare tanto il mondo finisce fra tre anni, fra due l'anno prossimo finisce e negli ultimi mesi dell'anno 999 il mondo si è davvero fermato secondo questa storia che troviamo raccontata da tanti studiosi da tanti dotti della nostra epoca dell'ottocento, del novecento ancora negli ultimi mesi dell'anno 999 la gente si affollava nelle chiese a pregare e piangere sperando di salvarsi perché appena fosse finito l'anno 999 finiva il mondo ecco io adesso ve l'ho detta con parole mie ma in realtà vorrei ricordare quanto profondamente era sentito questo tema in particolare nella cultura dell'ottocento e che impatto romantico aveva questa immagine di un intero mondo piegato dal terrore perché aspetta la fine del mondo vi leggo poche righe di un brano del Carducci Carducci scrive questo nel primo dei suoi discorsi sullo svolgimento della letteratura nazionale è una storia della letteratura italiana perché Carducci si preoccupa dei terrore dell'anno 1000 ne parleremo intanto sentiamo Carducci che era uno che sapeva scrivere vi immaginate il levar del sole nel primo giorno dell'anno 1000 questo fatto di tutte le mattine ricordate che fu quasi miracolo fu promessa di vita nuova per le generazioni uscenti dal secolo X e poi dice Carducci i terrori che si erano accumulati per anni e anni e naturalmente anche le ragioni di aver paura le epidemie, le carestie, i prodigi tutto questo all'avvicinarsi dell'anno 1000 si coagula in un'immensa paura collettiva sempre Carducci mille e non più mille aveva secondo la tradizione detto Gesù dopo mille anni leggevasi nell'Apocalipsi Satana sarà disciolto dopodiché segue appunto la descrizione delle folle gementi nelle chiese negli ultimi giorni dell'anno 1000 del 999 e poi c'è lo straordinario colpo di scena il primo giorno dell'anno 1000 il sole sorge e non è successo niente e che stupore di gioia e che grido salì al cielo dalle turbe raccolte in gruppi silenziosi intorno a manieri feudali accosciate e singhiozzanti nelle chiese tenebrose e nei chiostri quando il sole eterno fonte di luce e di vita si levò trionfale la mattina dell'anno 1000 formidabile naturalmente Carducci è un grande scrittore ma queste cose le scrivevano anche i miei colleghi gli storici nell'ottocento giusto per non negarci niente due righe da uno storico francese il Lavallè allievo di Michelet storia dei francesi 1844 traduco alla buona la credenza nella fine del mondo credenza che sembrava giustificata dalle pesti le fami le calamità di ogni genere che desolavano l'Europa provocava una atonia universale tutto era ghiacciato di paura nell'attesa del giorno fatale ogni impresa si era fermata ogni movimento si era arrestato non c'era più un'esperanza né avvenire si raddoppiava di fervore religioso con gioia del professor Odifreddi che vedo qui davanti a me ci si accumulava ci si affollava nei conventi si donavano i propri beni alla chiesa e da ogni parte si sentiva questo grido lugubre la fine del mondo si avvicina bene abbiamo assodato se non altro un punto nell'ottocento erano tutti convinti che ci fosse stato questo terrore collettivo che ha bloccato la società europea abbiamo modo di controllare abbiamo modo di andare a vedere cosa succedeva davvero nell'anno 999 e beh con un po' di fatica adesso andiamo a cercare dei documenti scritti in quell'anno per esempio cosa faceva il Papa alla fine del 999 Papa che doveva essere abbastanza interessato all'argomento evidentemente noi abbiamo una bolla papale pensate che fortuna del 31 dicembre 999 il 31 dicembre 999 Papa Silvestro II conferma i privilegi di un grande monastero tedesco il monastero di Fulda sono vari privilegi che la sede romana conferma su richiesta dell'abate e il Papa consegna questa bolla datata 31 dicembre 999 all'abate di Fulda dicendogli ti confermo tutti i privilegi del tuo monastero a te e ai tuoi successori a patto che in futuro ogni abate che verrà eletto venga a chiedere a Roma la conferma della sua elezione inoltre voi in cambio di questi privilegi monaci di Fulda dovete pagare un'offerta ogni anno di 12 denari alla sede romana da pagare in futuro ogni anno almeno questi due non si stavano aspettando la fine del mondo evidentemente è vero che Papa Silvestro II era un personaggio speciale era un grande erudito un grande dotto tanto dotto che qualcuno addirittura lo sospettava anche di un po' di intrallazzi con la magia si chiamava Gerberto di Oriac prima di diventare Papa magari lui era uno un po' speciale magari gli sprovveduti e la gente qualunque invece se l'aspettavano questa fine del mondo andiamo a vedere cosa faceva la gente qualunque nel 999 tra un po' di documenti che ho trovato ve ne cito uno a caso ho cercato fra quelli piemontesi che per me era più comodo siamo a Tortona in un mese imprecisato del 999 due fratelli uno è un prete a Delberto l'altro è un laico e Renzone sono due piccoli imprenditori prendono in affitto delle case delle terre dei campi dal monastero di San Marziano di Tortona prendono in affitto queste terre con un contratto scritto cosa che nell'anno 999 in certe parti d'Europa non si usava più tanto perché in molte parti d'Europa andavano più alla buona un contratto uno sputo sul palmo stretta di mano in Italia paese più vicino le sue radici classiche si usava di più andare dal notaio anche per fare un contratto d'affitto facevano questo contratto d'affitto che chiamavano il libretto libellus in latino questo contratto d'affitto noi ce l'abbiamo l'abate dà in affitto queste terre a questi due fratelli per la durata di qui vi voglio preparare nelle nostre campagne fino a un po' di tempo fa era in vigore la mezzadria e la mezzadria voi sapete che era un sistema come dire in apparenza paritario in realtà molto squilibrato a favore del padrone e normalmente il contratto durava un anno alla fine del raccolto a San Martino il mezzadro consegnava tutto e se il padrone voleva cacciarlo lo poteva cacciare l'albero degli zoccoli di Armando Olmi tanto per citare un film che magari molti hanno visto nel medioevo non era così nel medioevo c'erano poche braccia e uno dei grandi problemi per un proprietario terriero tanto più per i monaci che avevano altro a cui pensare che non star sempre dietro ai campi un grande problema per i proprietari terrieri era di trovare lavoratori che stessero lì anzi semmai di costringerli a stare lì se possibile anziché cacciarli quindi nel medioevo usavano contratti a lunga scadenza nell'anno 999 l'abate di San Marziano di Tortona dà in affitto queste terre del monastero a questi due fratelli per la durata di 29 anni a condizione che dovranno abitarci coltivarle non permettere che queste terre vadano in malora e ogni anno pagheranno al monastero un terzo del grano raccolto e metà del vino non solo fa comodo al padrone averli lì per 29 anni ma anche a loro fa comodo è una bella garanzia per il contadino dunque la garanzia sta a contratto vi diamo queste terre per 29 anni se nell'arco di questi 29 anni qualche mio successore abate dovesse cercare di riprendersele pagherà la penale di 20 soldi d'argento prevista dal contratto dunque anche questi nell'anno 999 non si aspettavano che il mondo finisse l'anno dopo evidentemente non c'è proprio nessuno che parla della fine del mondo nell'anno 999 alla fine un documento l'ho trovato che parla della fine del mondo ma bisogna vedere in che termini è un diploma dell'imperatore Ottone III l'imperatore Ottone III quell'anno è andato a Roma per varie brighe sue arriva a Roma e naturalmente si affolla la gente che gli chiede si affollano i postulanti che gli chiedono donazioni conferme diplomi benefici e così via tra l'altro arrivano i monaci di Farfa Farfa è un grande monastero laziale anche loro hanno dei privilegi naturalmente Farfa è un grande monastero imperiale appartiene all'imperatore però loro hanno un privilegio che l'imperatore non lo può regalare a qualcun altro quel monastero come invece gli imperatori facevano volentieri hai un vecchio consigliere da premiare che deve andare in pensione un tipo importante cosa ne fai? lo nomini abate di un monastero che va da lì e si goda le ricchezze di quel monastero queste cose ai monaci piacciono poco i monaci di Farfa hanno il privilegio non possono essere dati in questo modo a nessuno il loro abate se lo eleggono loro l'imperatore ottone terzo dice benissimo siamo d'accordo ve lo concediamo confermiamo questo privilegio dice l'imperatore il 3 ottobre 999 traduco dal latino per cui d'ora in poi in eterno mai più nessuno dei nostri successori potrà dare in beneficio a qualcuno il monastero di Farfa ma rimanga sempre di proprietà dello Stato res pubblica se qualche papa in futuro o qualche imperatore nostro successore dovesse invece soggiogare quel monastero a qualcuno si ricordi che quando poi verrà Cristo e tutti quanti dovremo rendergli i nostri conti dovrà rispondere di aver infranto la mia promessa perché Cristo verrà la fine del mondo ci sarà e tutti dovremo rendere i conti prima o poi ma chiaramente anche l'imperatore non si aspettava che l'anno finisse l'anno dopo che il mondo finisse l'anno dopo c'è un altro modo di controllare beh sì c'erano dei cronisti all'epoca certo che c'erano persone di solito studiosi e quindi di solito all'epoca uomini di chiesa monaci che a un bel momento decidevano di mettersi a tavolino e scrivere i grandi avvenimenti a cui assistevano magari anche solo poche righe magari invece anche di più anno per anno ci sono parecchi cronisti che hanno vissuto l'anno 1000 e che scrivono nel 998 è successo questo e quell'altro nel 99 è successo questo nel 1000 è successo quest'altro l'imperatore è andato a Roma nel 1001 è tornato in Germania e così via non c'è nessuno che dica c'era il terrore dell'anno 1000 c'erano le folle c'erano dei movimenti penitè niente dobbiamo pensare che nel medioevo erano gente così laica e disinvolta che della fine del mondo non gli importava niente no evidentemente l'abbiamo appena visto della fine del mondo gli importava il problema è quando verrà la fine del mondo c'è modo di saperlo torniamo un po' indietro noi l'abbiamo detto il Carducci dice mille non più mille ha citato l'apocalisse ecco andiamo un po' a vedere cosa ne sapevano loro della fine del mondo sapevano tutto tranne la data sapevano tutto perché c'è il libro dell'apocalisse che descrive esattamente come avverrà la fine del mondo il libro dell'apocalisse che è l'ultimo libro canonico del nuovo testamento attribuito a San Giovanni evangelista ma probabilmente non è vero comunque testo antico fine primo secolo un testo totalmente delirante va detto visionario che racconta le cose più straordinarie e che complessivamente si presenta come la descrizione della fine del mondo questa cosa per gli ecclesiastici del medioevo era molto importante e molto utile anche immaginate un cronista che vuole scrivere la storia universale va in biblioteca comincia trova gli storici antichi i greci i romani i cartaginesi Annibale e così via Costantino il grande imperatore cristiano i barbari Carlo Magno poi siamo arrivati adesso al presente lascio un po' di pagine bianche e poi volendo la parte finale la posso già mettere perché si sa già come sarà la fine del mondo basta andare a prendere l'apocalisse e la descrive verrà l'anticristo commetterà ogni sorta di nefandezze poi verrà sconfitto tornerà Cristo ecco l'apocalisse come vi dicevo è un testo visionario e farraginoso dove si trova di tutto a un certo punto l'apocalisse l'autore dell'apocalisse comincia a giocare col numero mille non si capisce niente e non è che mi dovete credere adesso ve lo leggo ma che centri l'anno mille o meglio il numero mille questo è evidente apocalisse 20 versetti 1 7 poi vidi un angelo che scendeva dal cielo e che aveva la chiave dell'abisso e una gran catena in mano egli prese il dragone il serpente antico che è il diavolo e satana e lo legò per mille anni poi lo gettò nell'abisso che chiuse e sigillò sopra di lui perché non seducesse più le nazioni finché fossero compiuti i mille anni uno legge questo e dice cosa vorrà dire sembrerebbe dire che a un certo punto per mille anni satana è reso impotente perché? perché è venuto Cristo certo saranno mille anni da quando è venuto Cristo e poi però allora qua dice che dopo mille anni lo liberano satana e subito dopo verrà la fine del mondo questa è una linea di ragionamento che è possibile è talmente possibile se mi permettete una piccola parentesi che anche oggi perché non è che noi oggi ne sappiamo di più che nel medioevo anche oggi salta fuori ogni tanto la setta è vero che succede più facilmente nel Texas protestante che non qui da noi ma anche oggi salta fuori ogni tanto la setta che dice guardate che verrà la fine del mondo e tutti gli adepti donano tutti i loro beni al capo della setta e poi a volte si suicidano anche tutti quanti insieme ecco questi movimenti queste sette noi come li chiamiamo? li chiamiamo movimenti millenaristi parliamo di sette millenariste di millenarismo quando ci riferiamo a qualcuno che predica l'avvicinarsi della fine del mondo parliamo di millenarismo perché continuiamo a essere impregnati di queste cose che si leggono nell'apocalisse che accosta i mille anni alla fine del mondo e dunque all'avvicinarsi dell'anno mille c'è stato qualcuno abbiamo appena visto che nel 999 non ci pensavamo più si era messi il cuore in pace ma in quei decenni c'è stato qualcuno che ha fatto questi ragionamenti sul libro dell'apocalisse e che ha cominciato a dire in giro preparatevi perché guardate che nell'anno mille il mondo finisce c'è stato qualcuno sì noi abbiamo un racconto preciso chi racconta è un monaco tanto per cambiare in quest'epoca quasi tutti quelli che hanno voglia di raccontare storie sono monaci si chiama Abbone Abate di Fleury in Francia Abbone di Fleury grande studioso grande scrittore grande intellettuale uno che ha letto molto e capisce molto scrive un libretto nell'anno 998 dedicato al re di Francia Roberto Abbone di Fleury dice al re di Francia guarda che nel tuo regno ci sono parecchie cose che non vanno ci sono parecchie cose che andrebbero corrette non sta parlando del fatto che i conti anziché rendere giustizia intascano bustarelle non è di quello che parla parla delle credenze della cultura di come funziona la chiesa dice guarda che nel tuo regno ci sono molti errori che vanno corretti per esempio ci sono dei chierici che non sanno bene il credo e quando recitano il credo sbagliano dovrebbero dire lo spirito santo procede dal padre e dal figlio invece dicono procede dal padre dimenticano il figlio questo non va mica bene va corretto ci sono dei chierici che fanno degli sbagli nel calcolare il calendario liturgico fanno cominciare l'avvento un giorno prima e anche questo non va bene dice Abbone il re deve provvedere e poi dice Abbone nel tuo regno in passato adesso è un po' che non succede siamo nel 998 ma in passato ogni tanto venivano fuori queste storie della fine del mondo e bisognava darsi un grande affare per tranquillizzare la gente Abbone dice io mi ricordo quando ero un ragazzino e si calcola che siamo intorno al 970 quando ero un ragazzino io stesso ho sentito a Parigi in una chiesa di Parigi un predicatore che avvertiva che nell'anno 1000 sarebbe venuta la fine del mondo e io dice Abbone che già da ragazzino era uno che aveva studiato io allora mi ricordo che mi sono sforzato di farlo star zitto e di spiegare a tutti che si sbagliava citando l'Apocalisse e il libro di Daniele e il Vangelo e così via poi dice Abbone è venuto fuori quell'altro sbaglio sulla fine del mondo mi ricordo che ai tempi del buon Abate Riccardo e siamo sempre intorno al 970 più o meno sono arrivate al nostro monastero delle lettere che dicevano che in Lorena c'era qualcuno che aveva fatto questo calcolo assurdo aveva detto io vi chiedo scusa se vi trascino in queste cose complesse ma questa gente viveva di questi ragionamenti e di queste sottigliezze qualcuno aveva detto l'anno in cui il venerdì santo coinciderà con l'annunciazione cioè il 25 marzo ci sarà la fine del mondo se ci ragioniamo un attimo perché questo è chiaro in quell'anno si chiude un circolo l'annunciazione è l'arrivo di Gesù che è ovviamente l'evento più grande della storia del mondo la venuta di Gesù ai loro occhi il venerdì santo è la morte di Gesù se un anno le due date coincidono siccome noi esseri umani siamo in grado di metterci in testa le cose più folli e di crederci intorno al 970 c'era qualcuno che andava in giro dicendo guardate che ovviamente io sono andato a vedere sul calendario perpetuo quando è che c'era stata l'ultima volta questa coincidenza nel 908 era passato un bel po' di tempo quando c'è stata di nuovo questa coincidenza del venerdì santo con l'annunciazione nel 970 guarda lì si vede che l'anno prima qualcuno ha fatto quel calcolo ma la cosa interessante è che a Bone che ci sta raccontando questa cosa dice quando è arrivata questa notizia il buon abate Riccardo mi ha detto a Bone occupatene tu scrivi tu in Lorena per spiegare che queste sono tutte fregnacce non si esprime così tecnicamente ma è chiaro che questo è il senso del discorso e io dice a Bone ho scritto spiegando quanto fosse folle questo ragionamento ergo facciamo il punto è assodato che l'idea della fine del mondo che arriva ogni tanto girava e che anche associarla con l'anno 1000 non era affatto impossibile a qualcuno è venuto in mente quello che è assodato è che queste cose ogni tanto venivano fuori e che venivano immediatamente messe a tacere non avevano nessuna possibilità di espandersi e di circolare perché i pastori provvedevano immediatamente a fermare questi ragionamenti e nell'anno 998 quando scrive a Bone sono ricordi di giovinezza ma perché l'abate Riccardo dice ad Abbone queste sono tutte frottole scrivi tu perché sono così convinti gli uomini di chiesa che non funzionano questi calcoli che è sbagliato cercare di prevedere quando verrà la fine del mondo ecco il punto è proprio questo non è che i calcoli non funzionano è che gli uomini di chiesa del medioevo sanno che è sbagliato cercare di prevedere la fine del mondo ed è sbagliato è giudizio universale naturalmente è sbagliato perché sta scritto nella Bibbia che non si può sapere Matteo 24 36 quanto a quel giorno e a quell'ora però nessuno lo sa San Paolo prima lettera ai testalonicesi il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte cioè non è che si annuncia prima arriva quando non lo sai quando diranno sempre San Paolo pace e sicurezza allora all'improvviso li colpirà la rovina ergo il Signore lo ha detto chiaramente io verrò ma voi non potete sapere quando anzi verrò quando meno ve lo aspettate quel giorno e quell'ora nessuno lo sa e quindi è perfettamente inutile mettersi a ragionare su queste cose il primo che lo dice chiaramente è un pensatore cristiano dei primi tempi che avrà un'influenza enorme sul pensiero cristiano medievale e cioè Sant'Agostino Sant'Agostino ci ragiona su e lo scrive molto chiaramente calcolare i tempi per sapere quando sarà la fine di questo mondo o l'avvento del Signore mi sembra nient'altro che voler sapere qualcosa che lui stesso il Signore ha detto che nessuno può sapere poi fra parentesi c'è anche un altro piccolo ragionamento che Sant'Agostino che conosce i suoi testi tira fuori subito sta scritto anche dice perché non sappiamo quando viene ma magari viene l'anno prossimo calma sta scritto che prima che venga l'anticristo e poi la fine del mondo il Vangelo dovrà essere predicato a tutti i popoli della terra è stato già predicato no perciò non sarà per l'anno prossimo dunque facciamo anche qui il punto siamo arrivati a dire che tensioni millenaristiche preoccupazioni per la fine del mondo nell'arco del Medioevo di tanto in tanto vengono fuori ma non hanno spazio per allargarsi perché dall'alto non sono accettate e ve ne faccio un esempio tanto per farvi vedere come queste cose in realtà capitavano anche spesso ma come fossero poi circoscritte vi faccio un esempio parecchio prima dell'anno 1000 torniamo indietro 847 siamo nell'anno 847 in Germania un analista racconta che a Magonza è saltata fuori una donna che sostiene di prevedere il futuro una pseudoprofetissa si chiama Fiota questa donna sostiene di conoscere la data della fine del mondo e guarda caso sarà l'anno prossimo lei conosce questa cosa dice il monaco che nessuno può sapere come se fosse Dio che gliel'ha rivelata e la gente anzi non la gente il monaco usa un termine significativo i plebei perché queste cose sono soltanto i poveracci che ci possono credere però di poveracci ce ne tanti questa donna va dicendo che lei lo sa che la fine del mondo sarà l'anno prossimo e molti plebei le credono e vanno da lei e le portano dei regali chiedendole di pregare per loro il vescovo di Magonza si secca un po' la convoca la interroga e viene fuori almeno la donna dice che questa cosa gliel'ha suggerita un prete suo amico dicendole tu vai in giro a predicare che l'anno prossimo viene la fine del mondo vedrai la gente quanti regali ci porta e infatti è proprio successo così il vescovo si consulta con altri vescovi decidono a questa una bella bastonatura non la toglie nessuno la fanno frustare sulla pubblica piazza e poi fuori dai piedi e che non osi più farsi sentire e così viene come dire spento il movimento millenaristico di Magonza dell'anno 847 a questo punto quanto tempo mi sono già giocato beh buona parte per nostra fortuna se voi ricordate da dove siamo partiti noi siamo partiti da gente e non gente da poco ma un Carducci storici accreditati e autorevoli del loro tempo che ci hanno detto che negli ultimi mesi e giorni prima dell'anno 1000 c'era il terrore collettivo le chiese piene insomma è inutile che ve lo ridicano sembrerebbe assodato che quell'immagine è interamente immaginaria appunto è inventata non è vero che è successo questo allora però voi capite che si pone allo storico un problema diverso ma anch'esso abbastanza interessante se non è mai successo chi è che l'ha inventata questa storia chi quando perché come è possibile al di là dell'angoscia di scoprire che noi storici possiamo credere e raccontare vedo sempre il professore Di Freddi che ride sotto i baffi ma anche voi matematici secondo me certe volte comunque noi storici possiamo ahimè convincerci di cose e convincere chi ci legge che poi cent'anni dopo si scopre che sono totalmente inventate e non è piacevole rendersene conto dire la verità il rimedio è andare a cercare di capire com'è successo perché almeno se uno capisce come succedono queste cose forse si può starci un po' più attenti forse com'è successa questa storia molti studiosi si sono messi a cercare di ricostruire la genealogia di questa leggenda dei terrori dell'anno 1000 ed è saltata fuori proprio proprio una genealogia nel senso di una serie di autori che si sono uno dopo l'altro copiati aggiungendo ognuno qualcosina il meccanismo è questo e a volte ci vogliono secoli perché questo capiti io adesso mi sono chiesto a lungo preparando questa lezione gli faccio tutto l'elenco oppure lo abbrevio ne faccio qualche esempio il primo colpevole è un cronista del medioevo un monaco che scrive intorno al 1100 cent'anni dopo i fatti è un bravo cronista si chiama Sigeberto Sigeberto di Jean Blu scrive una cronica ha letto tanti libri ha letto gli analisti dell'anno 1000 i quali delle paure non parlavano per niente è vero però che nell'anno 1000 qualche cronista ha menzionato un terremoto e i terremoti voi capite è un affare serio perché il terremoto è un segnale vuol dire qualcosa poi Sigeberto legge le sue fonti e scopre che nel 1002 c'è stata una cometa e anche la cometa è una cosa seria perché Dio non si prende il disturbo di modificare l'armonia delle stelle se non c'è un motivo molto preciso di mandare un avvertimento agli uomini Sigeberto fa 2 più 2 e già che c'è semplifica un po' terremoto nel 1000 cometa nel 1002 Sigeberto dice senti qui c'è di mezzo il 1000 evidentemente quell'anno era un anno un po' speciale Sigeberto semplifica nell'anno 1000 ci sono stati un terremoto una cometa ed è apparso un serpente nel cielo non dice va detto a onore di Sigeberto di Sigeberto non dice e tutti hanno avuto paura della fine del mondo lui si limita a accumulare questi prodigi e lui stesso è un millenarista l'anno 1000 è passato però l'impressione di quella cifra tonda continua a funzionare passano altri 70 anni 1170 circa un altro cronista cistercense Guillaume Godel che ha letto anche lui i cronisti dell'anno 1000 e degli anni successivi ha scoperto che nell'anno 1010 c'erano state delle visioni carestia eclissi ce n'è abbastanza Guillaume Godel scrive nell'anno 1010 ci sono stati tutti questi prodigi e molta gente ha avuto paura che il mondo finisse nelle sue fonti non c'era questo quelli che erano vissuti nel 1010 gli hanno detto c'è stata l'eclisse ma Guillaume Godel non è mica uno sciocco lo sa cosa pensa la gente quando vede l'eclisse e allora ecco il primo che parla di un terrore collettivo peccato per noi che lo mette nel 1010 è esasperante ma è così dopodiché il medioevo continua lungo tutta questa epoca che gli amici di Carducci immaginavano come epoca di credulità e ignoranza non c'è più nessun altro che si sogni di riprendere questa frasetta sui terrori poi finalmente arriva il rinascimento in quell'epoca illuminata che è il rinascimento cominciano a saltare fuori storici che invece ci credono che la gente avesse avuto paura della fine del mondo salta fuori per esempio il tritemio che pochi di noi giustamente hanno sentito nominare ma che è un importante umanista tedesco inizio del 500 che nella sua cronaca anche lui ha letto Sigeberto di Jean Blu e anche lui quindi dice nell'anno 1000 ci fu il terremoto e ci fu la cometa e ci furono le visioni e molti si spaventarono temendo che arrivasse l'ultimo giorno questo non l'ha letto in Sigeberto di Jean Blu ma voi capite come funziona è un umanista ormai è il rinascimento quei poveracci là stavano nelle tenebre del medioevo quando hanno visto tutti quei prodigi figurati se non si sono spaventati si sono spaventati e come? e il tritemio lo scrive e continua così autori su autori riprendono questa chiacchiera e ognuno ci ricama sopra perché è bello immaginarsela questa scena di tutto un mondo che si ferma per il terrore e mi rendo conto che a dirlo così sembra incredibile perché noi abbiamo questa ostinata convinzione che quando leggiamo qualcosa è perché l'autore la sa quella cosa che scrive e quindi è vera e non è assolutamente così si possono scrivere le cose più stupefacenti e magari l'autore se ne convince anche ma se gli vai a chiedere come fa vabbè lasciamo stare perché qui prenderei una via ma comunque diventa un luogo comune tutti sanno nel 600 nel 700 nell'800 che ci sono stati i terrori dell'anno 1000 va detto che c'è un motivo che li incoraggia in questa credenza e che noi possiamo anche capirli poveretti perché in realtà specialmente nel 700 nel 700 comincia una storiografia scientifica moderna si comincia a rifare la storia del passato non solo copiando i vecchi cronisti ma confrontando i documenti nel 700 comincia anche la storia delle nazioni moderne delle letterature moderne ora le nazioni moderne sono nate nel medioevo le letterature nostre sono nate nel medioevo ma prima o dopo l'anno 1000 dopo l'anno 1000 evidentemente tutti abbiamo studiato a scuola la storia della letteratura italiana no? e comincia tutto dopo l'anno 1000 prima niente e allora i primi studiosi i primi eruditi che si mettono a fare queste grandi storie d'insieme scoprono che il medioevo fin grosso modo all'anno 1000 è un'epoca che ha lasciato poche testimonianze succedono poche cose dopo invece esplode tutto la letteratura provenzale quella francese e lingua poi quella italiana i trovatori tutto le grandi cattedrali una grande civiltà che nasce dopo l'anno 1000 ora tutti questi eruditi e questi studiosi sanno che nell'anno 1000 il mondo si era fermato per il terrore e allora è facilissimo dare quel colpetto che aggiusta tutto l'anno 1000 diventa il punto di partenza perché è chiaro che fino all'anno 1000 la gente era troppo terrorizzata per fare qualcosa e dopo invece si sono messi in movimento sembra una barzelletta dirlo così è stato sostenuto molto seriamente vi cito un libro importantissimo nella storia della cultura italiana la Bate Bettinelli che alla fine del 700 pubblica una prima grande storia della letteratura e della cultura italiana Bettinelli non è uno qualunque il suo libro è un libro importantissimo come dire preveggente addirittura basti dire che il libro del Bettinelli uscito nel 1773 si intitola Risorgimento d'Italia negli studi nelle arti e nei costumi dopo il 1000 e di conseguenza con cosa comincia il libro del Bettinelli comincia raccontando com'è che per fortuna il mondo si è rimesso in movimento e in particolare l'Italia che aveva tante belle cose da fare ma fino all'anno 1000 nessuno si muoveva dopo il 1000 tornossi alquanto alle arti che erano prima state neglette per una credenza universale che la fine del X secolo dovesse essere ancora quella del mondo notate che il Bettinelli è curiosissimo sgrida gli storici perché dice gli storici ne parlano poco di questa faccenda e che invece è importantissima dice il Bettinelli perché è chiaro che quelle paure impedivano che nascesse la letteratura italiana che è quello che interessa a lui e tutto il resto quell'opinione che stesse per finire il mondo non è credibile quanto pregiudicasse in sino all'ultimo giorno del secolo X e non è credibile quanto danno togliesse cioè quanto bene abbia fatto il non aspettato principio del 1000 l'orror sempre presente di una prossima desolazione universale tolse ad ognuno speranze questa orrenda disperazione non dovette lasciare altri pensieri eccetera 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 via romanticheggiando poi sorge il sole dell'anno 1000 ma l'abbiamo già sentita questa storia e Carducci ho cominciato con quello questo che sto leggendo adesso è Bettinelli un secolo prima ma anche Carducci ricordate in che occasione scrive queste cose io l'ho detto prima ma voi non ve lo ricordate nel suo primo discorso sullo svolgimento della letteratura nazionale in altre parole c'è un filo diretto preciso chi nel settecento e nell'ottocento vuole fare la storia della grandezza italiana della civiltà italiana prima del mille non trova niente e di conseguenza parte dai terrori e quello che succede in Italia succede in Francia e succede negli altri paesi ognuno per conto suo bene siamo quasi siamo a buon punto direi c'è ancora un aspetto che io vorrei sottolineare di questa faccenda e che la rende forse in qualche misura un po' più attuale rispetto come dire a tutti questi discorsi di monaci del dodicesimo secolo che vi ho inflitto nell'ottocento sono tutti così convinti dei terrori dell'anno mille anche perché nell'ottocento si stanno combattendo delle battaglie ideologiche molto precise Carducci che abbiamo visto è uno dei principali come dire autori di questa leggenda o quelli che hanno uno di quelli che l'hanno espressa nel modo più romantico più evocativo beh Carducci è anche quello dell'inno a Satana naturalmente è il Carducci delle invettive contro il Vaticano contro la Chiesa del suo tempo reazionaria nemica del progresso è il Carducci delle poesie che attaccano il gran prete che in Vaticano continua a fare il re e a tagliare le teste degli oppositori nell'ottocento si combatte fra tante battaglie che si combattono si combatte anche una battaglia della cultura laica progressista scientifica positivista contro la superstizione e la Chiesa dell'ottocento è vista da molti di questi che si battono per una cultura laica e progressista è vista come un nemico non a caso va detto qui mi permetto una piccola parentesi perché le cose vanno contestualizzate se c'è un anticlericalismo così violento nell'ottocento è anche naturalmente perché la Chiesa di allora fa di tutto per farsi considerare come un nemico perché la Chiesa di allora è spaventata dal progresso sono cose che si possono dire tranquillamente perché la Chiesa di oggi lo ha riconosciuto ampiamente la Chiesa dell'ottocento è terrorizzata dal progresso è terrorizzata dal liberalismo è terrorizzata dalla scienza combatte il modernismo in tutte le sue forme scomunica chiude porte è chiaro che dall'altra parte la Chiesa è vista come il nemico oscurantista allora se la Chiesa e la religione cristiana sono fonte di superstizioni e di ignoranza ancora più sarà successo così in quella brutta lontana epoca da cui per fortuna siamo usciti in cui la Chiesa dominava il mondo il Medioevo nel Medioevo certamente la Chiesa così ragionano Carducci e tanti altri ai Michelin in Francia regnavano davvero le tenebre e allora non c'è da stupirsi se la gente era così ignorante se la gente era in preda a tutte le paure se all'arrivo dell'anno 1000 il mondo si è fermato per il terrore ma se da una parte c'è chi combatte questa battaglia anche dall'altra c'è chi combatte anche dal campo ecclesiastico c'è chi studia e scrive e pubblica per dire che non è vero niente che la Chiesa non era affatto come dire fautrice di ignoranza e superstizione anzi la Chiesa faceva tutt'altro e allora i primi che dicono ma questi terrori dell'anno 1000 di cui siete tutti così sicuri ma è poi vero scusate che ci sono stati vogliamo andare a controllare vedere i cronisti di quegli anni cosa scrivevano cioè in sostanza fare un po' quello che io ho fatto stasera i primi che fanno queste cose non sono spinti semplicemente non sono studiosi spinti dall'amore della verità ma sono anche combattenti di una guerra il primo articolo che esce nel 1873 che parla in Francia dei pretesi terrori dell'anno 1000 è di un prete uno studioso ecclesiastico Don Plain per cui dimostrare che i terrori dell'anno 1000 non ci sono mai stati non è soltanto un punto di precisazione storica ma vuol dire dimostrare che han torto i laici gli scienziati positivisti a parlare della chiesa come di una fautore appunto della tenebra e dell'ignoranza non è vero niente e qui devo anche confessare che è molto imbarazzante questa faccenda per me perché io devo dire ho già detto un po' prima e lo dico di nuovo che tutto sommato sui due piatti della bilancia allora nelle condizioni di allora avevano ragione i mangiapreti e aveva torto la chiesa la chiesa stava davvero combattendo delle battaglie sbagliate contro tutto ciò che c'era di moderno il liberalismo la democrazia l'unità d'italia ogni sorta di cose avevano ragione quegli altri per me però quegli altri che avevano ragione per dimostrare che avevano ragione hanno costruito hanno fatto una cattiva storiografia hanno costruito una leggenda e ci hanno creduto i preti di Pio IX che difendevano il Vaticano forse più oscurantista e reazionario che ci sia stato negli ultimi secoli però avevano ragione e hanno fatto una storiografia giusta e sono andati a scoprire la verità l'ultimissima cosa che vorrei dirvi che prosegue questo discorso e lo attualizza ancora di più è che sembrerà strano ma non è ancora del tutto finita e cioè c'è ancora almeno in Francia che è un paese dove le spaccature ideologiche sono un po' diverse dalle nostre ma sono profonde e specialmente quella fra cultura laica della Repubblica e cultura cattolica c'è ancora oggi una qualche dimensione di attualità in questa polemica sui terrori dell'anno 1000 e mi spiego è uscito da pochissimo tempo un libro che fin dal titolo è chiaramente programmatico i falsi terrori dell'anno 1000 e di uno studioso molto famoso in Francia non ancora in Italia che si chiama Sylvain Guggenheim come la Peggy Guggenheim dell'arte contemporanea sarà quindi anche lui di origine ebraica verosimilmente ma è uno studioso cattolico che ha scritto questo libro molto militante i falsi terrori dell'anno 1000 dicendo in sostanza questo è vero che i terrori dell'anno 1000 non ci sono stati ormai lo sanno tutti ma non basta bisogna dissiparla di più questa leggenda perché se andiamo a vedere la storiografia del 900 la grande storiografia francese Duby quegli studiosi quando si sono occupati dell'anno 1000 dice Guggenheim certo hanno ammesso che i terrori sono una leggenda ma hanno molto insistito sul fatto che comunque c'era il millenarismo c'erano questi movimenti c'era un'atmosfera pesante di inquietudine in sostanza Guggenheim attaccando alcuni mostri sacri della storiografia del 900 come appunto Georges Duby Guggenheim dice questi in realtà grandi maestri per carità però hanno creato di nuovo un'impressione falsa sono tornati a dare questa impressione dell'anno 1000 come epoca tenebrosa inquieta oscura mentre dice Guggenheim non è vero niente perché è interessante scoprire questo perché Guggenheim come vi dicevo è uno studioso non solo cattolico ma arci cattolico ultra che è diventato famoso in Francia non per questo libro sui terrori dell'anno 1000 Guggenheim è diventato famoso in Francia per un libro che è uscito cinque anni fa che si intitola Aristotele al Mont Saint Michel il Mont Saint Michel l'avete presente è la famosa abbazia in Normandia quella che sta in mezzo al mare quando c'è la marea rimane isolata dalla terraferma Guggenheim in Aristotele al Mont Saint Michel sostiene e dico sostiene perché il suo libro ha provocato polemiche furibonde con illustri studiosi che hanno detto che è tutta spazzatura e altri illustri studiosi che hanno detto che invece è molto interessante quindi io non l'ho ancora letto vi riferisco soltanto quel che so in sintesi Guggenheim in questo libro sostiene di aver scoperto che nel monastero del Mont Saint Michel nel Medioevo c'era un grande centro di traduzione dal greco in latino e lì si traduceva direttamente dal greco in latino Aristotele e Ptolomeo gli scienziati greci e così via io credo che voi capiate già le implicazioni di questo ma Guggenheim per non farsi mancare niente le esplicita nel suo libro queste pagine le ho viste sono andato a vederle Guggenheim dice e quindi non è vero quello che ci hanno sempre raccontato che è grazie agli arabi che noi abbiamo potuto possedere la filosofia e la scienza greca la filosofia e la scienza greca dice Guggenheim noi cristiani ce le siamo tradotte direttamente dal greco e non avevamo nessun bisogno degli arabi e tanto per essere ancora più chiaro nelle ultime pagine del libro Guggenheim dice e del resto si sa che l'arabo è una lingua completamente inadatta per parlare di argomenti scientifici che gli arabi come mentalità non sono un popolo degli scienziati e di conseguenza era ridicolo pensare che noi gli dovessimo qualche cosa alla cultura islamica medievale noi non dobbiamo niente voi capite che è un argomento un filino provocatorio e di fatti in Francia ci sono stati dibattiti furibondi su questo libro ora capite colpisce che lo stesso studioso che scrive Aristotele al Mont Saint Michel il libro successivo che scrive è per dire ricordiamocelo che i terrore dell'anno 1000 non ci sono mai stati perché qui i laici hanno di nuovo un po' confuso le idee si parla troppo di millenarismo medievale invece non è vero niente io qui non mi schiero i terrore non ci sono mai stati questo è evidente chiarissimo ma quello che mi interessava far vedere in conclusione è come quali sono come sono complesse insomma le vie con cui si creano i miti e con cui poi rimangono radicati magari si creano in modo del tutto innocente uno che ha aggiunto una righina in una cronaca e magari rimangono lì silenziosi per secoli poi viene il momento in cui una certa cosa torna utile nelle battaglie di quel momento e allora si tira fuori e lo spirito critico sparisce è un meccanismo estremamente impressionante per chi di voi ci sarà anche domani dopo domani racconteremo esempi credo più divertenti di questo se Dio vuole di casi simili questo era il primo questo avevo da raccontarvi stasera e quindi qui mi fermo grazie 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 a tutti grazie a tutti bene buonasera dunque il tema di questa sera è forse fra tutti quelli che toccheremo qui in queste tre serate quello più conosciuto tutti abbiamo in mente credo questa immagine che associamo al medioevo dello ius primen octis e quindi mi smentisco l'abbiamo tutti in mente ma diciamo comunque che cos'è il diritto del signore del villaggio di avere la verginità di tutte le ragazze del villaggio o perlomeno tutte quelle non nobili tutte le serve le contadine in particolare in occasione del loro matrimonio andare a letto con loro prima del marito nella prima notte di nozze questa immagine è diffusissima nella percezione che oggi si ha del medioevo tant'è vero che la ritroviamo continuamente ogni volta che c'è un romanzo storico o un film ambientato nel medioevo magari ogni volta è dir troppo ma continuamente la ritroviamo vi faccio un paio di esempi per richiamare cose che a molti saranno già familiari potrei farne tantissimi facciamone due uno per quanto riguarda il romanzo storico qualche anno fa nel 2006 credo è uscito un romanzo storico che ha avuto un immenso successo di un autore spagnolo che si chiama il defonso falcones il romanzo si chiama la cattedrale del mare è una gran storia ambientata nel medioevo nella catalogna del trecento una storia di lotta per la libertà e contro i soprusi e si apre con una grande scena che è tutta incentrata sullo ius primen octis voi sapete che un romanzo storico come ogni romanzo d'appendice deve cominciare con una scena forte ci deve essere qualcosa che catturi immediatamente il lettore se c'è un morto meglio ma se no comunque qualche cosa di molto forte la cattedrale del mare si apre con questa scena violentissima dello ius primen octis c'è un matrimonio contadino c'è il contadino che si deve sposare e sono contadini agiati gente che lavora che sta bene rispettabile c'è il banchetto di nozze in campagna e a un certo punto all'improvviso capita lì il signore a cavallo accompagnato dai suoi sgherri e tutti sono molto spaventati che sia arrivato lì il signore però ovviamente non possono far niente lo invitano a sedersi e il signore si siede a tavola con gli altri invitati e comincia a bere e si accorge che la sposa è una bella donna e vuole che sia lei a versargli il vino la costringe a venire lì la tocca e poi quando ha ben bevuto il signore salta su prende la sposa per un polso chiama lo sposo e gli dice in virtù del diritto che mi spetta come tuo signore ho deciso di giacere con tua moglie nella vostra prima notte di nozze dopodiché trascina dentro la donna poi esce dopo un po' abbottonandosi i calzoni e dice al marito dai adesso tocca a te e nessuno ha mosso un dito sono tutti costernati agghiacciati da quello che sta succedendo ma nessuno di quei contadini muove un dito perché il signore ha il diritto di fare quello che sta facendo poi questo ius primen octis così violento che in realtà è uno stupro avrà conseguenze enormi tutto il romanzo parte da lì tanto per dire che lo ius primen octis è un formidabile pretesto narrativo mette in movimento tutta una macchina c'è il cattivo ci sono i buoni che hanno subito il sopruso c'è la ragazza che impazzisce dopo questa violenza e il marito poi dopo un po' parte dal villaggio e va a stare in città dove almeno c'è la libertà e dove non ci sono i signori a cui bisogna ubbidire vi faccio ancora anche un altro esempio sarà superfluo anche questo pazienza un film che in tanti abbiamo visto Braveheart di Mel Gibson grande filmone medievale la storia della ribellione degli scozzesi sotto la guida dell'eroico William Wallace contro i malvaggi dominatori inglesi anche lì a un certo punto lo ius primen octis entra in gioco per far andare avanti la trama è una scena curiosissima il re d'Inghilterra malvagio ovviamente sta discutendo con i suoi baroni e a un certo punto dice il problema della Scozia è che è piena di scozzesi ma io ho trovato il modo di farla finita con gli scozzesi è venuto il momento di rimettere in uso una vecchia tradizione concediamolo ius primen octis d'ora in poi i nostri nobili avranno diritto ad andare a letto con le ragazze scozzesi prima che si sposino e in questo modo il sottinteso è che si imbastardirà la razza di questi ribelli notate mentre nel romanzo di Falcones con un bel coraggio l'autore ha provato a immaginare un mondo in cui lo ius primen octis esiste come una cosa che non si può evitare di accettare è un obbligo è una legge e nessuno si ribella nel film Braveheart e capirete poi perché è importante sottolineare questo aspetto è un po' diversa la prospettiva il re dice rimettiamo in uso una vecchia consuetudine e ben inteso la conseguenza quando gli inglesi cominciano a pretendere lo ius primen octis e che gli scozzesi insorgono definitivamente e questo è un nesso che ritroviamo spessissimo quando si racconta de lo ius primen octis ci sono un sacco di cittadine o paesini italiani che nella loro tradizione nella loro leggenda hanno un lontano passato in cui un malvagio feudatario opprimeva gli abitanti pretendendo lo ius primen octis fino a quando naturalmente una ragazza più coraggiosa degli altri o un marito più coraggioso degli altri si ribellano e mettono fine alla tirannia è un lungo elenco dando vedere su internet si potrebbe aggiungerne ancora altri quanti sono i luoghi che hanno nella loro memoria memoria nella loro tradizione questa storia fiuggi sant'agata di puglia rocca scalegna in abruzzo parecchi paesi in liguria montalto ligure onzo parecchi paesi in piemonte nizza monferrato rocca grimalda perfino ivrea dove il carnevale di ivrea sapete il carnevale in cui si gettano le arance all'origine secondo quel che si racconta oggi ha un episodio in cui un malvagio tiranno pretendeva lo ius prime noctis fino a quando una ragazza più sveglia degli altri si ribella la bella mugnaia violetta apro una piccola parentesi per immaginare quanto è antica questa storia basta pensare che il nome violetta nel medioevo non sapevano neanche cosa fosse il nome violetta diventa di moda nell'ottocento con la traviata prima non c'è nessuno che si chiami violetta chiusa parentesi perché non voglio influenzare il vostro giudizio dunque mi pare che abbiamo assodato primo punto che nella cultura di oggi sia nel folklore locale sia nella cultura degli autori di romanzi storici e degli sceneggiatori e quindi anche di tutti noi che quei film li guardiamo e quei romanzi li leggiamo lo ius prime noctis è una presenza abbastanza regolare quando si parla di medioevo come sapete la scommessa di queste nostre serate è di dire beh andiamo a controllare andiamo a vedere che testimonianze ci sono nel medioevo dell'esistenza dello ius prime noctis andiamo a cercarle adesso vi proporrò rapidamente due possibili percorsi andiamo a vedere nelle testimonianze nelle fonti che ci sono arrivate dal medioevo dove si parla dello ius prime noctis dove possiamo andare a cercare una prima idea è di andare a cercare nella letteratura nelle novelle in quella letteratura realistica che descrive situazioni reali nel medioevo hanno grandissimo successo piacciono moltissimo e se ne scrivono un sacco le novelle tipo quelle del boccaccio quelle del boccaccio noi italiani le conosciamo bene ma esistono generi letterari simili anche negli altri paesi c'è un'immensa produzione di questi testi i quali hanno queste caratteristiche sono di solito molto realistici rappresentano situazioni reali dell'epoca personaggi reali e sono molto espliciti di sesso si parla molto e se ne parla senza farsi nessun problema si parla di sesso per raccontare di beffe riuscite per far vedere come i poveri riescono a resistere ai soprusi dei ricchi si parla di sesso per vedere come l'astuzia anche in quelle situazioni lì conti e serva molto ci sono le novelle del boccaccio ma c'è un altro genere mi fermo un secondo su questo in Francia già prima del boccaccio già nel 200 c'è un genere letterario si chiamano i fablio sono dei poemetti brevi inversi perché il gusto di allora era quello molto divertenti di solito che un po' come le novelle nostre raccontano burle scherzi beffe episodi strani e anche lì di sesso si parla continuamente ripeto in modo realistico c'è il prete del villaggio che insidia la moglie del ciabattino e si sa che al villaggio il prete è quello che ha studiato è quello che parla meglio è quello che ha più soldi e quindi insomma ha successo con le parrocchiane c'è lo studente di passaggio ospitato per una notte dal mugnaio e che quella notte mette gli occhi sulla figlia del mugnaio e così via anche qui con una estrema libertà anche di linguaggio nel descrivere queste situazioni uno direbbe se c'è un posto dove qualche autore doveva parlarci dello Ius Primen Octis sarà ben in questa novellistica medievale che argomento che espediente narrativo lo Ius Primen Octis non si trova mai non c'è una singola novella medievale una singola barzelletta o storia di sesso medievale e ce ne sono innumerevoli che parli mai dello Ius Primen Octis non parlano del fatto che magari il signore del villaggio mette gli occhi sulle ragazze è certo che ne parlano perché il signore del villaggio mette come gli occhi sulle ragazze come ne parlano vi faccio un esempio una novella francese del 400 nel 400 esce in Francia una raccolta di novelle che è un po' copiata sul Decameron come struttura sono 100 si chiamano le 100 novelle nuove le 100 nouvelles nouvelles la novella 24 racconta di un conte che a un certo punto viene a sapere che in uno dei suoi villaggi c'è una bella ragazza il conte è un bravo uomo però insomma insomma non butta via le occasioni quindi va a dare un'occhiata la ragazza è veramente carina ed è una sua suddita a questo punto cosa fa il conte le manda un mezzano le manda un suo servo per dirle guarda che tu al conte piaci se sei furba se ci stai la tua fortuna è fatta la tua della tua famiglia la ragazza risponde io sono una suddita del conte sono pronta a obbedire a qualunque suo ordine salvo il mio onore ma se mi vogliono chiedere qualcosa contro il mio onore a cui tengo più che alla mia stessa vita io il conte neanche lo conosco il servo va dal conte e gli riferisce questa risposta il conte ci rimane male e siccome ormai si è messo nell'idea va in giro intorno al villaggio della ragazza finalmente la trova da sola la ragazza è da sola che sta tagliando l'erba vicino al bosco arriva il conte e comincia a corteggiarla un po' bruscamente e la ragazza non vorrebbe starci e il conte diventa molto intraprendente e le dice senti stai ferma perché comunque non mi scappi a questo punto la ragazza e tutto il succo della novella naturalmente sta nella trovata della ragazza per sfuggire a questa situazione imbarazzante a questo punto la ragazza gli dice vabbè vista la situazione d'accordo ci sto però senti ti chiedo solo una cosa togliti i pantaloni perché mi fanno male il conte era pronto a sbottonarsi i pantaloni e basta hai i pantaloni da cavallo aderentissimi di pelle difficilissimi da sfilare lui non si toglieva mica però dice vabbè dai se vuoi che me li tolga dai toglimeli perché io da solo non ci riesco si sdraia la ragazza comincia a tirare questi pantaloni aderentissimi quando è arrivata a metà salta su e dice io vado il conte salta in piedi precipita per terra perché non può muoversi con i pantaloni infilati in quel modo la ragazza si mette in salvo il conte ci pensa un po' si mette a ridere trova che la ragazza ha avuto spirito e dato che è un bravuomo in realtà ci mette una croce sopra e anzi alla prima occasione organizza un grande matrimonio con un altro nobile per questa ragazza le dà una grossa dot per ricompensarla del suo spirito con tutta la buona volontà se c'era una novella in cui magari un piccolo accenno al fatto che lui bastava che dicesse c'ho il diritto o lo iusprime no niente ci sono delle novelle medievali in cui ogni tanto però viene fuori questa idea della prestazione sessuale come una specie di tassa come una specie di obbligo qualche novella c'è ma in un orizzonte completamente diverso da quello dello iusprime noctis come lo immaginiamo noi ve ne racconto una per darvi un esempio siamo sempre in questa raccolta francese del quattrocento è una novella che racconta cosa è successo quando i francescani si sono stabiliti per la prima volta in Catalogna nella città di Gerona hanno costruito il loro convento e hanno cominciato a fare quello che i frati fanno sempre cioè a parlare con la gente a confessare i penitenti a dare buoni consigli e come sempre succede molta gente va dai francescani a confessarsi anche molte donne anche molte donne carine e com'è com'è non è dopo un po' i francescani cominciano a così ci sono tutte queste belle penitenti ai francescani viene voglia sto sempre raccontando questa novella quattrocentesca come vedete nel medioevo non si fanno problemi a raccontare le storie non hanno paura di offendere nessuno a un certo punto uno dei francescani ha un'idea geniale quando gli viene la bella penitente a confessarsi il francescano le dice cara la mia donna qui però devi sapere che noi francescani abbiamo anche dei diritti ce li ha dati il papa anche tu devi pagare la tua parte io prontissima cosa devo fare e dice sai che si paga la decima no? certo tu paghi la decima al signore paghi la decima al parroco e anche noi francescani abbiamo diritto a una decima alla decima di tutte le notti d'amore tra te e tuo marito quindi sappi mia cara che d'ora in poi devi tenere il conto e venire a pagare la decima parrocchiana convintissima paga la decima e gli altri francescani dopo un po' scoprono il trucco e tutte le parrocchiane vengono a sapere che bisogna pagare la decima delle notti d'amore e sono tutte molto convinte e con grande zelo per salvarsi l'anima vengono al convento a pagare la decima poi vabbè la novella finisce male nel senso che i mariti se ne accorgono se la prendono un po' bruciano il convento con tutti i frati dentro e così finisce è una barzelletta come capite è una storia ci dimostra che questa gente al sesso ci pensava e che lo sapeva che c'era un nesso fra il sesso e il potere che il sesso è una partita complicata è una situazione sociale complessa che succedono tante cose in ambito sessuale però con tutta la buona volontà lo ius prime noctis come lo conosciamo noi meno di zero proviamo a fare un'altra verifica lo ius prime noctis è conosciuto come uno degli obblighi del contadino verso il suo signore siamo informati noi su quali fossero in generale gli obblighi dei contadini verso i signori sappiamo in particolare quali erano gli obblighi che pesavano di più che davano fastidio contro cui ci si ribellava lo sappiamo e come noi abbiamo una documentazione immensa sulle lamentele dei contadini medievali contro tutti gli obblighi che erano costretti a subire nella signoria perché succedeva di tutto succedeva per esempio a un certo punto comincia a succedere abbastanza spesso che i contadini che intanto hanno fatto i soldi e sono stufi di avere certi obblighi sono stufi di dover andare che ne so ogni notte ci deve essere un uomo di guardia sulla torre del castello quindi tutte le famiglie a turno devono mandare un uomo è una bella seccatura oppure per parlare di cose ancora più impegnative perché toccano i soldi le terre del villaggio sono tutte del signore i contadini hanno il diritto di gestirle in perpetuo però pagano l'affitto i contadini se le possono anche vendere fra loro ma sono sempre del signore e devono pagare al signore una certa tassa quando comprano o vendono le sue terre e in molte signorie il signore dice quando il mio uomo muore se ha dei figli loro si ereditano le terre che sono mie ma se non ha figli maschi le terre me le riprendo io non permetto al mio contadino di decidere lui far testamento e lasciare in eredità la terra magari a una donna che poi magari sposa uno di un altro villaggio e non si sa cosa succede nella mia signoria testamento non si fa i contadini dopo un po' sono seccati di tutto questo e molto spesso anzi quasi dappertutto non c'è quasi villaggio in Europa dove prima o poi nel medioevo non succeda che i contadini si siedono a un tavolo insieme col signore e mettono i soldi sul tavolo e dicono noi vorremmo abolire quest'obbligo quest'altro quest'altro e quest'altro in cambio paghiamo e si fa e si fa una bella pergabena si scrive tutto se poi il signore non è d'accordo capita che i contadini vanno dal re e gli dicono noi non stiamo bene col nostro signore come mai perché pretende questo quest'altro e quest'altro e questo questo lo pagavano già i nostri nonni pazienza ma quest'altra cosa che pretende è una novità è un abuso noi non vogliamo farla questa cosa e il re si mette in mezzo e giudica e si va per avvocati e i contadini pagano un avvocato e arrivano i memoriali noi abbiamo negli archivi scartafacci enormi con gli elenchi di tutti gli obblighi di questi contadini che non ne possono più e sono disposti a tutto pur di eliminarli questi obblighi e se anche il processo non va bene capita che i contadini si ribellano si ribellano e magari fanno anche fuori il signore oppure il signore più facilmente scappa e poi dopo un po' ci si rimette d'accordo magari c'è scappato il morto ma alla fine si fa la pace e di nuovo si scrive tutto l'elenco degli obblighi che pesavano sui contadini medievali ne ho appena accennato qualcuno a titolo di esempio erano tantissimi questi obblighi e di tutti ci si lamentava e per tutti si pagava pur di riscattarli voi avete già capito dello ius primen octis non si parla mai non c'è un elenco di lamentele contadine che accenni a questo obbligo questa gente che è disposta a pagare un sacco di quattrini per non avere più la scocciatura di dover fare un turno di lavoro alla settimana nei fossati del castello non accenna minimamente allo ius primen octis ora a quel punto facciamo una considerazione di metodo l'argomento che parte dal silenzio bisogna trattarlo con attenzione non basta dire di questa cosa non si parla mai quindi non c'era questa diciamo è una regola generale del mestiere però è anche vero che ci sono dei casi in cui se di una cosa non si parla mai e invece avrebbero dovuto parlarne come se ci fosse stata ecco ci sono dei casi in cui francamente l'argomento da silenzio ti mette un po' in crisi non c'è fino al quattrocento e quindi per quasi tutto il medioevo non esiste nessuna testimonianza che parli di qualcosa che assomiglia allo ius primen octis anche se certe volte si trova qualcosa che ci aiuta a capire come è poi nata questa che a questo punto mi sento di definire questa leggenda a volte troviamo qualche indizio che ci fa capire com'è che la gente ha cominciato a ricamare su questa fantasia vi cito il caso più antico che si è trovato è un documento del 1247 siamo in Francia è un elenco dei soliti obblighi dei contadini di un villaggio siccome quel villaggio appartiene per metà a un signore laico e per metà ai monaci di un monastero il signore e i monaci litigano spesso quel pezzo tocca a me quell'altro tocca a te e allora a un certo punto fanno una bella lista scritta di tutti gli obblighi fra gli obblighi dei contadini di questo villaggio di Verson nella Francia del 200 c'è il seguente obbligo quando un contadino sposa sua figlia se sposa un ragazzo di un altro villaggio deve pagare una tassa chiarimento questo non è niente di strano e niente di nuovo è una clausola che è molto frequente nella vita dei contadini medievali e se non vi annoia troppo vi spiego anche come mai esiste questa clausola seguitemi il contadino lavora nel villaggio e lavora terra del signore e gli paga l'affitto quando si sposa sua figlia magari le dà in dote una parte di quella terra tanto il genero continuerà a lavorare quella terra e a pagare l'affitto al signore non c'è nessun problema ma se il genero è uno di un altro villaggio chi garantisce al signore che poi si riesce a obbligarlo a pagare l'affitto che lui lavorerà davvero che verrà a risiedere lì non lo garantisce nessuno è un altro villaggio c'è un altro signore quindi il signore di Verson come i signori di innumerevoli altri villaggi medievali non è contento se le figlie dei suoi contadini sposano un ragazzo di un altro villaggio e quindi dice se proprio lo volete fare mi dovete pagare per dare il mio consenso voglio essere pagato questa tassa dunque è diffusissima ma noi stiamo raccontando il caso specifico del villaggio di Verson 1247 c'è questo elenco in latino che elenca tutti questi obblighi un monaco di quell'abbazia si è divertito a un certo punto avendo poco da fare a scrivere una poesiola in francese in rima che elenca questi stessi obblighi traduce in latino e in versi questo elenco di obblighi e a un certo punto fa un'aggiunta quando è arrivato alla tassa che i contadini devono pagare quando si sposa la loro figlia con un ragazzo di un altro paese il monaco dice oggi si pagano tre soldi ma i contadini va bene perché una volta era molto peggio c'è stata un'epoca in cui si pagava così tanto che i contadini non ce la facevano certe volte a pagare e c'erano dei padri di famiglia che piuttosto di dover dare al signore un capo di bestiame o una vigna o una rendita gli portavano la figlia e gli dicevano senti fai quello che vuoi basta che mi abbuoni la tassa questa è la primissima menzione in un testo medievale fra i milioni di testi e documenti medievali di una cosa che assomiglia vagamente allo ius primen octis perché dico vagamente notate perché non se ne parla come di un diritto e se ne parla come di una cosa che fa il padre pur di non dover pagare la pesante tassa ma soprattutto la cosa importante è che già in questa primissima menzione come vedremo in seguito succederà regolarmente si parla dello ius primen octis o di una cosa che gli assomiglia scusatemi di una cosa che gli assomiglia dicendo nei brutti vecchi tempi e questa è la chiave per capire come alla fine del medioevo hanno cominciato a fantasticare su quello che succedeva nei brutti vecchi tempi alla fine del medioevo ci sono molte località villaggi o anche città che sono state create secoli prima da gruppi di contadini che si sono messi d'accordo hanno abbandonato il villaggio hanno detto arrivederci al signore si sono fondati la loro città e sono andati a vivere liberi in questa città è un fenomeno frequentissimo nel medioevo in certe regioni è più frequente che in altre per ragioni varie e casuali è molto frequente in Piemonte per esempio dove parecchie città da Cuneo ad Alessandria a Cherasco sono nate con questo meccanismo proprio a Cuneo alla fine del 400 succede questo sono passati 300 anni dalla fondazione della città alla fine del 400 un erudito di Cuneo l'avvocato Rebaccini decide di scrivere la storia di Cuneo e racconta come è nata Cuneo che i nostri antenati tanto tempo fa hanno deciso di abbandonare i loro signori e di lasciare i loro villaggi e di andare a vivere in una nuova città e dice l'avvocato Rebaccini se ne sono andati perché era pesante stare sotto il dominio dei signori e comincia ad elencare tutta una serie di angherie che i signori facevano ai loro contadini e non gli permettevano di fare testamento e li costringevano a pagare ogni volta che qualcuno doveva vendere una terra prendevano la decima prendevano la taglia su ogni contratto prendevano una quota si facevano li costringevano a fare prestazioni di lavoro gratis dice l'avvocato Rebaccini li costringevano a lavorare senza discrezione perché se l'avessero fatto con discrezione ma invece così no e notate che tutte queste lamentele corrispondono esattamente a quello che i documenti di 300 anni prima ci dicono davvero nelle signorie c'erano questi obblighi e questo peso l'avvocato Rebaccini racconta e racconta come erano brutti quei vecchi tempi come erano tiranni quei feudatari e poi alla fine quando ha proprio finito tutto finalmente sottomettendo la ragion alla libidine e sensualità defloravano le figlie dei sudditi e parimente le spose persuadendo a sudditi questa esser loro antica ragione e privilegio loro concesso come il Rebaccini a Cuneo così nel 500 e nel 600 in parecchie città italiane e francesi c'è un bravo cittadino che si mette a raccontare la storia della città e che comincia da quando 300 anni prima 400 anni prima i tre snonni si sono ribellati ai cattivi signori e a molti di questi ormai entra in circolo questa cosa erano proprio cattivi quei signori e pretendevano perfino questa cosa se uno non pagava si prendevano la verginità delle ragazze in altre parole arrivati al 4500 noi ci troviamo di fronte quindi tra la fine del medioevo e il rinascimento noi di colpo ci troviamo di fronte a un'Europa dove il racconto dello Ius Primenoctis è entrato in circolo e comincia a ritornare fuori e torna fuori sempre sempre con questa caratteristica che si parla di un passato lontanissimo ai brutti vecchi tempi succedevano queste cose no non è vero non è sempre che si parla dei brutti vecchi tempi da noi c'è anche un altro modo in cui nell'Europa del 4500 circola la storia dello Ius Primenoctis non da noi nei brutti vecchi tempi ma adesso presso i selvaggi l'Europa del 4500 facciamo un po' di contesto in fretta è l'Europa delle grandi scoperte geografiche nel corso del 400 i portoghesi si sono inoltrati nell'Atlantico hanno attraversato sono scesi sotto il capo di buona speranza ovunque hanno scoperto nuove terre e poi alla fine del 400 naturalmente parte Colombo e arriva in America e poi nel primo 500 vanno i conquistadores e tutto un insieme di mondi nuovi che vengono scoperti ogni volta i navigatori che arrivano in un posto nuovo pubblicano delle relazioni dove raccontano che posto è questo queste relazioni dei navigatori e dei conquistatori portoghesi e spagnoli si assomigliano tutte gli abitanti di queste isole sono dei selvaggi voi non vi immaginate che selvaggi sono vanno nudi non hanno nessuna morale fanno le cose peggiori figuratevi che da loro quando uno si sposa il capo del villaggio ha il diritto di andare a letto con la ragazza e certe volte non sono il capo del villaggio se si sposa un commerciante tutti i commercianti vanno si sposa un nobile tutti i nobili se invece è un plebeo va il padrone naturalmente quando i portoghesi scoprono le canarie a metà 400 raccontano questo quando Alvise Cadamosto va a Tenerife e dice che a Tenerife succede questo quando Cortes va in Messico racconta anzi prima ancora a Cuba racconta che a Cuba succedeva questo è chiaro perché raccontano questo perché noi questi popoli selvaggi li stiamo riducendo in schiavitù se non sterminando perché gli stiamo portando se Dio vuole la ragione e la vera fede e di conseguenza bisogna dimostrare che ne hanno un gran bisogno che arriviamo noi a portargli la civiltà questi selvaggi sono veramente al di sotto dell'umano fanno cose inconcepibili va da sé che nessuno spagnolo o portoghese sia mai sognato che nel suo mondo succedano quelle cose lì perché altrimenti non gli verrebbe da presentarle come un esempio di stranezza e invece quando si parla dei selvaggi tutto va bene diciamo anche una cosa perché poi le cose sono sempre più complesse e il mondo non è fatto tutto in modo in un altro escono questi libri ne escono tanti la gente ci crede c'è anche qualcuno che protesta la relazione di Cortes in cui dice che a Cuba succedevano queste brutte cose viene pubblicata da Francisco López de Gomara nella storia generale delle Indie occidentali e delle nuove terre scoperte e c'è qualcuno che protesta perché in quell'Europa così strana dopo tutto c'è anche qualcuno che dice ma non è vero niente noi stiamo facendo torto a questi Indios bisogna difenderli è una vergogna quello che gli stiamo facendo la Scasas il Gesuita il quale precisamente parlando di questo libro dice questo libro denigra quei popoli non è vero niente e arriva a farlo proibire dal re perché calunnia gli Indios intanto però l'ha tradotto in francese lo legge Montaigne lo leggono tutti e insomma queste storie continuano a circolare allora rifacciamo il punto nell'Europa del 4-500 la storia dello Ius Primen Octis circola ampiamente ci sono due possibilità succedeva da noi nei brutti vecchi tempi oppure succede adesso fra i selvaggi fra i selvaggi fra i barbari perché poi ognuno ha il barbaro che vuole avere nell'Inghilterra tra 5-600 l'Inghilterra della gran regina Elisabetta e di Shakespeare c'è un paese che i bravi inglesi considerano non barbaro e selvaggio anzi sarebbe un paese molto civile però si è imbarbarito orrendamente è un paese che è in un abisso di nefandezza ed è l'Italia naturalmente è l'Italia dove da una parte comanda il Papa e per i bravi protestanti inglesi il papismo è ciò che c'è di peggio al mondo e contemporaneamente in Italia c'è Machiavelli il cinico l'immorale ecco l'Italia per gli inglesi del primo 600 è il paese più immorale del mondo nel 1619 va in scena a Londra una commedia scritta da due autori di successo Beaumont e Fletcher si intitola the custom of the country l'usanza del paese e racconta di un paese una città così barbara che in quella città il governatore esige lo ius primen octis su tutte le donne che in quella città si sposano finché naturalmente una coppia più energica delle altre si ribelle eccetera 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 dov'è quella città? ma in Italia naturalmente in buona sostanza lo ius primen octis è diventato per gli intellettuali letterati ma anche per il pubblico del 4500 un argomento formidabile per descrivere tutti quei mondi che non ci piacciono che consideriamo barbari che sia il lontano passato medievale o che sia il presente dei selvaggi o degli italiani a seconda dei casi non basta a questo punto succede un'altra cosa che serve a consolidare la leggenda che lo ius primen octis ai brutti vecchi tempi è esistito davvero il 500 è epoca di giuristi è epoca di giuristi che cominciano a analizzare in particolare gli obblighi dei contadini le consuetudini delle signorie le consuetudini feudali come si comincia a dire a quell'epoca questi giuristi in Francia per esempio sono al servizio del re e il re sarebbe ben contento di ridimensionare un po' il potere dei signori nella cultura di questi giuristi il potere dei signori è comincia a sembrare un'anticaglia una cosa che andrebbe eliminata ricordiamoci che nel 1789 dopo due secoli e mezzo di ragionamenti di questo tipo finalmente con la rivoluzione francese la prima cosa che fanno è l'abolizione del regime feudale tutto questo comincia nel 500 i giuristi del 500 analizzano scoprono che in molte signorie si paga una tassa sul matrimonio ora i giuristi del 500 intanto son gente che ha una cultura come dire anche amano divertirsi amano anche loro le novelle un po' sconce e il secolo dell'aretino e il secolo di rablet nelle università si scherza e ci si diverte molto e tutti questi giuristi sono stati studenti prima di diventare giuristi e insomma sanno anche che molto spesso quando un contadino paga una tassa è perché prima c'era un servizio in natura e poi il contadino l'ha riscattato abbiamo visto questo meccanismo quando il giurista voi immaginate il giurista la sua scrivania carica di codici è dotissimo ma è anche pronto a credere qualunque cosa deve spiegare perché i giuristi dell'epoca devono spiegare come mai si paga questa tassa c'è una tassa sui matrimoni il contadino quando fa sposare sua figlia deve pagare non è che prima c'era un servizio in natura che adesso è stato riscattato e certo deve essere così per forza dovunque trovano una tassa sui matrimoni i giuristi immaginano che prima ci fosse lo ius primen octis e vengono fuori interi trattati dove questa informazione viene somministrata come se fosse ormai un dato di fatto ormai si sa che in passato succedeva questo e anche gli storici ormai leggendo i giuristi e se non lo sanno loro poi gli storici quando manca un pezzo inventano c'è un libro che ha un'enorme influenza esce nel 1526 è una storia della Scozia di un autore che si chiama Boetius Hector Boetius per darvi un'idea di quanto è attendibile la storia della Scozia di Boetius che pure è un intellettuale del rinascimento un dotto umanista per darvi un'idea di quanto è attendibile vi dirò che secondo lui la Scozia è stata fondata da una principessa che si chiamava Scozia e che era la figlia del faraone quello di Mosè quello della Bibbia in quest'opera di cui potete apprezzare la credibilità Boetius dice da noi in Scozia i contadini pagano una tassa sul matrimonio questa tassa è stata introdotta dal buon re Malcolm nell'undicesimo secolo per consiglio di sua moglie la santa regina Margherita per sostituire una tassa precedente non una tassa un obbligo precedente un obbligo nefando immondo che non oso neanche dirvi cosa fosse che fu introdotto tanti secoli prima ai tempi dei barbari dei celti dal re Eveno di Scozia l'obbligo per cui appunto le ragazze eccetera eccetera con tutta la buona volontà cascano proprio le ginocchia perché per carità il re Malcolm è esistito e anche sua moglie Margherita ovviamente non hanno mai fatto niente del genere il re Eveno fa il paio con la principessa Scozia figlia del faraone è inventato di sana pianta perché questi quando non sanno riempire i vuoti inventano e i libri girano i libri li leggono tutti già dimenticavo vi dico questa io ho raccontato due o tre di queste cose ma non il fatto di Boetius della Scozia ho raccontato qualcosa sullo Ius Primae Noctis in un articolo che è uscito sulla stampa tre o quattro giorni fa dove dicevo guardate che lo Ius Primae Noctis è una leggenda così e così stamattina apro la posta mi ha scritto un signore gentilissimo dicendomi caro professore ho letto il suo articolo lo Ius Primae Noctis certo sarà una leggenda però a me risulta che in qualche caso esisteva davvero nel dizionario storico del Ducanjo si dice che in Scozia il re Eveno aveva introdotto lo Ius io l'ho letto stamattina nella posta questo quindi come vedete le cose circolano i giuristi credono a tutto bisogna dire che ogni tanto la situazione le aiuta anche le imposte che i contadini pagavano nel medioevo avevano tanti nomi ce ne erano molte per esempio che avevano un nome che parte dall'idea della colletta colletta lo sappiamo tutti cosa vuol dire raccogliere soldi e quindi in molti casi quando il signore faceva il giro diceva è ora di pagare quella cosa si chiamava la colletta colletta in toscano ma nelle varie lingue d'Europa prendeva vari nomi in francese spesso si chiamava queillage per esempio si chiamava queillage nella lingua comune una tassa che si pagava in varie occasioni a volte anche la tassa sul matrimonio si chiamava queillage ma naturalmente la gente la chiamava queillage ma nei documenti latini il notaio si sforzava di tradurre in latino questa parola della lingua parlata e certi notai magari proprio perché si divertivano anche loro da matti a prendere per i fondelli i contadini e i loro signori questi rozzi ignoranti certi notai quando dovevano trascrivere in latino la parola queillage scrivevano culagium voi immaginate i giuristi del cinquecento quando scoprono che il contadino quando si sposa sua figlia deve pagare al signore una tassa che si chiama culagium è la fine del mondo ma non basta altro esempio nel medioevo è universalmente diffuso un nome per indicare le imposte che è una parola che oggi non è più usata molti di voi non l'avranno mai sentita fodro la parola fodro gli specialisti di storia medievale la conoscono benissimo e nella lingua parlata non esiste più oggi invece è una parola dall'origine molto chiara in realtà è la stessa parola dell'inglese fodder che vuol dire foraggio cibo per gli animali si paga un'imposta per nutrire i cavalli del re o del signore fodro ma gli eruditi del cinque del sei del settecento dopo un po' non conoscono più l'origine di questa parola si paga il fodro cosa sarà mai a Nizza Monferrato allora chiamata Nizza della Paglia in Piemonte si paga il fodro a Nizza Monferrato la leggenda locale dice che i contadini hanno fondato il paese ribellandosi contro un cattivo signore nel settecento arriva un erudito l'abate Giulio Cesare Cordara che mette insieme le due cose a Nizza Monferrato c'era il cattivo signore e si pagava un'imposta che si chiamava il fodro fodro cosa sarà mai questo fodro fodero ecco da dove viene fodero il fodero ma cos'è questo fodero sarà un'immagine una metafora il fodero la guaina la vagina ecco cos'è il fodero ecco cos'era che dovevano pagare questi poveri contadini e l'abate Cordara alla fine del settecento scrive un poema il fodero ossia il ius sulle spose degli antichi signori di Nizza Monferrato un passettino in là una volta che tutti si sono convinti che nel passato esistevano questi diritti si va a cercare altre prove e andando a cercare altre prove le trovi esempio esempio di un documento che è stato citato da innumerevoli studiosi come la prova che non solo nel medioevo esisteva lo ius premen octis ma perfino la chiesa lo pretendeva dai suoi contadini il punto di partenza è un processo un processo che si celebra davanti al Parlamento di Parigi e che riguarda la diocesi di Amiens siamo alla fine del trecento qual è la premessa nel medioevo la chiesa come oggi e forse ancora più di oggi anzi spesso più di oggi si sforzava di ricordare ai cristiani che il sesso nel matrimonio ci sta anche bene ma deve essere tenuto sotto controllo perché è finalizzato esclusivamente alla procreazione e di conseguenza nel sesso non bisogna lasciarsi andare troppo neanche nel matrimonio anzi è cosa buona e giusta imparare a tenere sotto controllo la libidine capita in qualche diocesi medievale che i vescovi comincino a spiegare ai loro fedeli che sarebbe una bella cosa se quando si sposano per tre giorni rimanessero casti in modo da dimostrare che sanno dominare la loro libidine che non si sposano per quello in certe diocesi questo diventa in un modo o nell'altro un obbligo che la chiesa impone quando ti sposi per tre giorni non puoi consumare il matrimonio dopodiché il basso medioevo l'alto medioevo prima del mille è un'epoca stagnante dopo no dopo fanno i soldi tutti girano soldi a non finire e diventano anche molto sbrigativi e molto cinici si paga per tutto nel basso medioevo molta gente comincia a dire sì vabbè mi sposo dovrei fare i tre giorni di castità ma se invece facessi un'offerta alla chiesa e la chiesa dice benissimo fai l'offerta dopo un po' non c'è più nessuno che osserva i tre giorni di castità ma ci sono diocesi dove è normale che chi si sposa deve pagare una certa tassa alla chiesa come la chiamano in vari modi ma per lo più la tassa della prima notte di nozze perché io pago proprio per quello a fine trecento e storia vecchia anche questa nella diocese di Amiens la gente non la paga più il vescovo si secca e fa un processo per costringere la gente a continuare a pagare questa tassa la gente protesta si va al Parlamento di Parigi viene fuori un processo che dura i tempi non erano tanto diversi dai nostri sedici anni e alla fine non mi ricordo neanche più cosa decide il Parlamento di Parigi ma insomma comunque questo processo voi lo immaginate sono faldoni così in latino di ragionamenti giuridici in latino quando gli storici del settecento dell'ottocento scoprono questo processo e non è che stanno a leggere tutto proprio non si capisce niente però una cosa si capisce si parla di una tassa sulla prima notte di matrimonio ed era la chiesa che pretendeva dai contadini la tassa sulla prima notte di matrimonio è la prova che loius prima notte esisteva ultima cosa la più curiosa se vogliamo tra quattro e cinquecento un po' tutti si convincono che nei brutti vecchi tempi loius prima notte esisteva anche i signori sentono dire questa cosa perché la signoria esiste ancora fino all'abolizione del regime feudale con la rivoluzione francese la signoria esiste i signori sono meno potenti di prima il re gli ha tolto parecchi poteri parecchie entrate però comunque il contadino ha ancora sempre a che fare col signore e paga tante tasse i signori vengono a sapere che in passato esisteva questo ius primen octis cioè sta a vedere che esisteva anche nella mia signoria i miei avi i miei avi sicuramente avevano diritto allora le reazioni possibili sono due c'è un erudito dell'inizio del seicento che ci racconta questa storia dice io ho parlato col cardinale Gerolamo della rovere importante cardinale nobile famiglia fine cinquecento il cardinale Gerolamo della rovere mi ha detto che questo ignobile diritto esisteva anche nella sua famiglia e che lui stesso ha bruciato la pergamena che dava ai della rovere il diritto dello ius primen octis chissà cosa c'era in quella pergamena un imposto sul matrimonio il culagium va a sapere cosa c'era il cardinale l'ha presa per buona siccome era un cardinale l'ha bruciato ai nostri tempi civili queste cose non si fanno più ma ci sono anche dei signori che non sono dei cardinali e che si fanno meno scrupoli ci sono dei signori che magari litigano spesso con i loro contadini anzi i signori litigano continuamente con i contadini perché è un bel dire i diritti sono questi gli obblighi sono questi la gente non vuol pagare le tasse quindi si litiga continuamente si va in processi e ogni tanto capita che un signore è chiamato da un tribunale a dire quali sono secondo lui i suoi diritti a partire dal 400 è stato individuato qualche caso 5 in tutto che io sappia 1 nel 400 3 nel 500 1 alla fine del 600 sotto il re sole ancora in vari postacci sperduti in cui un signore locale chiamato da un tribunale a dichiarare quali erano i suoi diritti e gli obblighi dei suoi contadini ha detto mi pagano questo mi pagano quello l'agnello a Pasqua il maiale a Natale 10 soldi quando comprano una terra 20 soldi quando cambiano casa 5 soldi quando si sposa la figlia e questi 5 soldi quando si sposa la figlia è perché io avrei diritto di andarci a letto la prima notte ma i miei antenati hanno accettato di commutare questo diritto e quindi adesso io mi accorso ma potrei sempre riprendere a pretendere questa cosa se i miei contadini non stanno bravi e quindi come vedete la fantasia diventa non proprio realtà ma una specie di ipotesi del possibile c'è 5 su centinaia di migliaia di signori vissuti in Europa che hanno litigato così tanto con i loro contadini da andare a dirgli guarda che se non smettete di farmi arrabbiare io tiro fuori lo ius primen octis forse verrebbe anche la pena di accennare a questa cosa siamo quasi alla fine ma 5 minuti li abbiamo ancora il matrimonio nell'Europa della fine del medioevo e della prima età moderna non è una cosa tanto privata anzi è una cosa molto pubblica e che è anche al centro di molti conflitti che sono abbastanza accettati dalla gente anche se sono conflitti e possono creare problemi vi faccio un esempio di conflitto si sposa la ragazza del villaggio con uno di un altro paese di un altro villaggio abbiamo già detto che al signore questo scoccia e che quindi bisogna pagare ma la cosa dà fastidio anche agli altri ragazzi del villaggio è una delle nostre ed è venuto uno di quegli altri a prendersela e ce la porta via è normale che i ragazzi del villaggio quando una loro compagna si sposa e va a stare in un altro paese quando il corteo nuziale sta per uscire gli fan trovare la strada sbarrata la strada è sbarrata i giovanotti del villaggio sono tutti lì e dicono allo sposo se vuoi portarla via paga da bere e lo sposo 99 volte su 100 abbozza si sa e paga da bere a tutti allora gli tolgono la barriera lo fanno andare una volta su 100 lo sposo è uno che ha già bevuto un po' si arrabbia si picchiano ci scappa il morto il banchetto di nozze e il momento poi della prima notte di nozze sono momenti anche quelli di questo tipo il banchetto vengono tutti nell'immaginazione del romanziere Falcones il signore capita lì per caso non sapeva che il contadino si sposava figuriamoci lo sapevano tutti queste cose e il signore era invitato di solito al banchetto e come? perché tenerselo buono è importante e anche a lui serve tenersi buoni i contadini ricchi quindi ci va gli battezzerà poi i figli va al banchetto e ci tiene andare al banchetto e sedersi al posto d'onore ogni tanto c'è anche qualche signore che litiga con i contadini perché l'hanno invitato ma non gli è andato da bere abbastanza bene doveva bere meglio e lui ha il diritto di bere il vino migliore che c'è al banchetto non quello che danno agli ospiti di seconda categoria e poi quando la sposa va finalmente a letto con suo marito c'è un'infinità di rituali possibili in generale tutti gli invitati maschi preparano il marito e le donne preparano la moglie li svestono li mettono in camicia da notte gli fanno un po' di scherzi un po' di battute un po' di oscenità e poi finalmente li chiudono in camera ci sono signorie dove il signore dice sono io che ho il diritto di accompagnare la sposa in camera perché il signore di questo villaggio sono io e si deve vedere in altre parole esiste tutto un contesto folclorico in cui intorno al matrimonio si possono intrecciare sì degli obblighi degli obblighi verso la collettività ed è in questo contesto che se gli eruditi credono che in passato c'erano ius primen octis ecco non ci vuole molto perché cominci a crederci anche qualcuno sul serio dopodiché concludiamo lo ius primen octis è una straordinaria fantasia che il medioevo ha creato che è nata alla fine del medioevo e a cui hanno creduto così tanto che c'era quasi il rischio che qualcuno volesse metterlo in pratica davvero anche se non risulta che sia mai successo davvero in realtà è una fantasia non è mai esistito questo vuol dire che il signore ogni tanto non andava a letto con la ragazza del villaggio no non vuol dire questo il signore andava a letto con la ragazza del villaggio con le buone con le cattive queste sono cose che succedono in ogni società diseguale ma è una differenza immensa una società in cui capita che il ricco ne approfitta e va a letto con la ragazza povera e immaginare invece che è una vera follia una società dove questo sia un diritto a cui tutti si devono rassegnare perché lo dice la legge che il signore andasse a letto con le ragazze del villaggio è come dire che nell'ottocento il padrone della filanda o suo figlio ogni tanto andava a letto con l'operaia è come se il padrone della filanda andava a letto ogni tanto con l'operaia c'erano mille motivi per cui questo poteva succedere ma ovviamente nessuno si sarebbe sognato di dire che era un diritto parlarne come di una legge significa voler inventare un passato e allora io chiuderei con un passo che io trovo straordinario che parla proprio dell'invenzione del passato è tratto dal romanzo di Orwell 1984 nel romanzo di Orwell a un certo punto si parla di come sotto il regime del grande fratello veniva reinventato per il popolo il passato nel passato si insegna al popolo c'erano delle creature malvagie chiamate i capitalisti e i capitalisti opprimevano il popolo in tutti i modi con ogni sorta di abusi e di soprusi cito testualmente c'era anche una cosa chiamata lo ius primen octis che probabilmente non sarebbe da menzionare nei libri di scuola per bambini era la legge secondo la quale ogni capitalista aveva il diritto di andare a letto con ogni donna che lavorava nelle sue fabbriche ecco io questo lo trovo fantastico perché per l'appunto Orwell ha individuato esattamente il meccanismo ciò che può succedere nella realtà ed è una violenza ed è un effetto dei rapporti sociali si immagina che fosse una legge perché immaginare una società in cui una cosa del genere possa essere una legge significa immaginare una società veramente aliena totalmente barbara rispetto ai nostri valori e quindi appunto quando noi vogliamo riscrivere il passato e immaginarcelo ed essere contenti che noi viviamo in un mondo tanto migliore rispetto al passato lo Ius Prime Noctis è perfetto per arredare questo passato grazie grazie Buonasera allora questa sera parleremo di un'altra superstizione non una superstizione medievale naturalmente ma una superstizione nostra riguardo al Medioevo nell'idea popolare che poi condividiamo un po' tutti di un Medioevo oscuro di un Medioevo superstizioso di un Medioevo arretrato rispetto allo splendore dell'antichità ecco in questa idea che più o meno tutti condividiamo rientra anche questa immagine l'idea che a quel tempo fossero tutti convinti che la terra è piatta tutti non soltanto quelli che normalmente non si preoccupano di queste faccende ma anche i dotti fa parte della nostra immagine di Medioevo questa idea di dotti in realtà ignorantissimi e superstiziosi anche loro convinti che la terra è piatta o perlomeno che non osano dire nient'altro che non osano insegnare niente di diverso per paura di essere puniti dalla Chiesa questa idea è così diffusa che probabilmente non devo dimostrarvi che è diffusa la condividiamo un po' tutti o ci abbiamo creduto un po' tutti fino a un certo momento che nel Medioevo si immaginassero la terra piatta tuttavia cito un esempio che mi sembra probante un'opera che è sicuramente indicativa della cultura popolare diffusa un film che ci ricordiamo tutti dalla nostra infanzia La spada nella roccia di Walt Disney nel cartone animato La spada nella roccia a un certo punto vi ricordate c'è il mago Merlino che insegna a Semola e il mago Merlino a un certo punto fa un viaggio nel futuro e torna dal futuro se non sbaglio con gli occhiali da sole e i bermuda e dice a Semola nel futuro ci saranno delle cose straordinarie fra l'altro scopriranno che la terra è rotonda quindi è chiaro che questi arretrati medievali non sapevano che la terra è rotonda in questa nostra immagine è centrale naturalmente la figura di Cristoforo Colombo se non ci fosse Colombo non avremmo così in testa questa idea di dotti ignoranti che credono che la terra sia piatta Cristoforo Colombo è fondamentale perché Cristoforo Colombo lo sappiamo tutti ha avuto grandi difficoltà per far approvare il suo progetto per trovare i finanziamenti per salpare con le tre caravelle e se Cristoforo Colombo ha avuto tante difficoltà la versione che più o meno tutti abbiamo in mente è che loro gli altri non ci credevano che la terra è rotonda e quindi non ci credevano che lui salpando da palos sarebbe potuto arrivare dall'altra parte del mondo abbiamo tutti in mente questa immagine epocale vedremo poi quando è nata questa storia di Cristoforo Colombo davanti ai dotti di Salamanca appunto questi dotti ignorantissimi che in tutti i modi cercano di boicottare Colombo perché non ci credono che la terra è rotonda e questo tema è oggi diffusissimo per esempio sono innumerevoli le vignette le battute le barzellette su Cristoforo Colombo e la terra piatta se andate a vedere su internet si trovano c'è la vignetta delle caravelle che arrivano al limite del mondo ed effettivamente la terra è piatta e le caravelle cominciano a precipitare e tutti i marinai gridano a Colombo ah allora era rotonda eh ricorderei ancora un lavoro di un bravissimo fumettista nostro Al-Tan qualche decennio fa Al-Tan ha scritto un fumetto su Cristoforo Colombo e nel Cristoforo Colombo di Al-Tan memorabile devo dire a un certo punto si vede Colombo che è in viaggio nell'oceano ormai da un bel pezzo e non arriva alla terra non si vede niente e c'è questa vignetta c'è Colombo sulla tolda che tamburella nervosamente con le dita e mugugna è piatta maledetta è piatta dunque come voi sapete almeno lo sa chi c'era ieri o l'altro ieri qui il mio mestiere è di fare il guastafeste cioè di dire dopo aver fatto vedere questa bellissima immagine di questo mondo folle che crede che la terra sia piatta di dire non è vero niente questa volta è così facile che se dovessi soltanto parlarvi di quello finiremmo in dieci minuti nel medioevo lo sapevano benissimo che la terra è rotonda come faccio a dirvelo ecco se qui avessimo potuto proiettare delle immagini ve lo facevo vedere subito ma è un esperimento che potete fare quando tornate a casa domani mattina magari andate a cercare su un libro o su internet una qualunque immagine di un imperatore medievale una qualunque che sia la famosa statuetta di bronzo di Carlo Magno a cavallo che sia una miniatura che raffigura il Barbarossa per esempio o che sia un bassorilievo che rappresenta un imperatore bizantino tutti sempre hanno in mano nella sinistra di solito tutti sempre hanno in mano il simbolo del loro potere sul mondo un globo a volte sormontato dalla croce per indicare che il mondo sarà dominato dalla religione cristiana ogni imperatore medievale è raffigurato con un globo in mano per indicare il suo potere sul mondo che come tutti sanno è un globo ma siccome non possiamo proiettare delle immagini e adesso qualcuno di voi magari può dirsi ma io non me le ricordo queste immagini e raccontiamo anche qualcos'altro i dotti del medioevo si preoccupavano di come è fatto il mondo e di come è fatto l'universo leggevano dei trattati e scrivevano dei trattati sulla forma della terra è certo che lo facevano e adesso spero che non sia una parte troppo noiosa ma dato che devo dimostrare la cosa che vi ho detto cioè che loro lo sapevano benissimo che la terra è rotonda citiamo qualche fonte nel settimo secolo c'è un monaco in Inghilterra che si chiama Beda tenete conto che il settimo secolo è nel pieno di quella fase del medioevo che gli inglesi chiamano tuttora dark ages i secoli oscuri il settimo secolo è un momento in cui c'è veramente un basso livello culturale scrivono poco non ci hanno lasciato grandi risultati è il momento nel complesso di maggior declino culturale del medioevo nel settimo secolo in quel posto sperduto che è l'Inghilterra il monaco Beda scrive una serie di opere uno potrebbe dirmi si Beda scriveva ma chi lo sapeva no le opere di Beda sono state copiate hanno circolato esistono moltissimi manoscritti delle opere di Beda stavano in tutte le biblioteche Beda scrive traduco dal latino noi chiamiamo la terra globo non perché non ci siano delle irregolarità di montagne pianure ma perché se consideriamo tutto l'insieme la circonferenza della terra rappresenta un globo perfetto Beda si preoccupa della forma della terra anche in un'altra occasione scrive un trattato sul calcolo del calendario sui tempi sui giorni sugli anni parentesi perché si occupano di questa roba ma perché la chiesa medievale è interessatissima al calcolo del calendario bisogna calcolare quando è la Pasqua tutto l'anno come dire religioso dipende da dei calcoli bisogna saperle queste cose Beda scrive un manuale su come si calcola la Pasqua e a un certo punto gli viene da dire vi sarete accorti che d'estate i giorni sono più lunghi ed inverno i giorni sono più corti perché dice Beda il motivo per cui i giorni non sono tutti uguali è la rotondità della terra rotunditas non per niente nelle pagine della Bibbia e anche nella nostra lingua comune si parla dell'orbe terrestre infatti è sempre Beda che sto citando settimo secolo nel pieno dei secoli bui infatti è un'orbe posta al centro dell'universo e vabbè qui dobbiamo scusarli non è che avevano capito tutto per loro come per Ptolomeo nell'antichità la terra era al centro dell'universo ma è un'orbe dice Beda rotonda quando Beda dice che la terra è rotonda si accorge che c'è qualcosa che non va non basta dire che è rotonda perché rotonda è una parola ambigua e qui visto che prima ho citato il fumetto di Altan mi permetterete di fare un'altra piccola divagazione nel mondo della cultura pop del fumetto c'è o c'era ai miei tempi un fumetto ambientato nel medioevo un fumetto comico una strip comica che si chiamava il mago di Id the wither of Id c'era questo regno medievale con un piccolo re cattivissimo in una striscia di questo fumetto a un certo punto ci sono i dotti del regno che discutono sulla forma della terra e si dicono è rotonda no non è vero è piatta sottopò è un fumetto degli anni 60 per chiarire che non ci perdiamo sottopongono al re la questione e il re esce a pensare poi torna ha in mano qualcosa che non si vede e il re dice ho deciso la terra è rotonda ed è anche piatta e tutti dicono scusa come è possibile e il re dice io la chiamo la teoria della pizza e fa vedere una pizza che ovviamente è rotonda ed è anche piatta ho fatto questa divagazione per dire che quando Beda nel settimo secolo dice la terra è rotonda si accorge che non basta perché e allora Beda dice la pizza non la conoscevano nell'Inghilterra del settimo secolo Beda dice la terra è rotonda non nel senso di uno scudo ma piuttosto di una palla rotonda allo stesso modo da tutti i lati dopo Beda nel corso del medioevo continuano a uscire trattati che parlano dell'universo dell'astronomia e della forma della terra e si vede che gli autori di questi trattati continuano a avere qualche problemino col linguaggio perché appunto dire che la terra è rotonda rischia di non bastare e quindi c'è tutto uno sforzo di far capire anche a quelli magari non tanto colti a cui si cercano di spiegare queste cose e allora è meglio spiegarle con delle immagini piuttosto che con dei teoremi vi cito qualche brano da vari trattati medievali sulla forma della terra la terra è rotonda come una palla questo l'aveva detto anche Beda se non ci fossero ostacoli potremmo camminare tutto intorno al mondo come una mosca su una mela dopodiché ci sono anche autori che dicono senti risolviamolo questo problema del linguaggio rotonda non va bene però c'è una parola che non può suscitare dubbi sfera il più importante trattato medievale sulla forma della terra è stato scritto da un monaco inglese nel 200 un monaco che si chiama Giovanni di Sacrobosco e questo trattato sulla forma della terra si intitola in latino de sfera trattato sulla sfera tenete conto lo dico anche qui come nel caso di Beda perché uno potrebbe dire si lui l'ha scritto ma chi lo sapeva il trattato di Sacrobosco era diffusissimo era il libro di testo standard nelle università medievali appena hanno inventato la stampa hanno stampato il de sfera di Sacrobosco è uno dei primissimi libri stampati già nel 1471 quando la stampa l'avevano appena inventata nel giro di 30 anni escono 25 edizioni a stampa del trattato di Sacrobosco la sfera in altre parole quando Colombo discute con i dottori di Salamanca ma sarà poi vero che Colombo ha discusso con i dottori di Salamanca vedremo anche questo quanto sia vero ma in ogni caso quando Colombo va a chiedere i finanziamenti in tutte le biblioteche d'Europa c'è a stampa ormai il trattato del Sacrobosco sulla terra che si intitola la sfera a questo punto proviamo a fare un passo indietro mi hanno detto che la prima sera parlando dell'anno 1000 c'erano troppi flashback che diventava difficile seguire scusatemi facciamo lo stesso un passo indietro come mai nel medioevo almeno i dotti sapevano benissimo che la terra è una sfera ma perché in realtà lo sapevano già gli antichi e non è vero che le conoscenze degli antichi si sono perdute tante cose sì tanti dettagli sì ma le cose di sostanza non potevano perdersi gli antichi greci sapevano perfettamente che la terra era rotonda e come facevano a saperlo ragioniamo un attimo su questo perché gli autori medievali sono gli eredi di questi e sanno che la terra è rotonda perché fanno gli stessi ragionamenti che avevano fatto tanti secoli prima Aristotele o Tolomeo e sono ragionamenti diciamolo fra parentesi che possiamo fare anche noi se mai ci venisse il dubbio perché oggi è facile uno dice ho visto le foto gli astronauti dalla luna hanno fatto le foto la terra è rotonda comodo prima come si faceva il fatto sconvolgente è che prima era facilissimo capire che la terra è una sfera bastava mettersi a ragionare dice Aristotele e questo in verità non è un ragionamento è piuttosto osservazione empirica dice Aristotele i navigatori che vanno verso sud ci dicono che man mano che vai verso sud le costellazioni in cielo si spostano salgono e compaiono nuove stelle che prima non si vedevano e quando ti sei molto allontanato le costellazioni sono tutte diverse e Aristotele dice questo si può spiegare solo se la terra è una sfera perché se la terra fosse piatta muovendoti le costellazioni rimarrebbero sempre quelle magari non siete del tutto convinti Aristotele dice anche un'altra cosa che è veramente conclusiva anche perché il viaggiatore che è andato fino al sud è chi è che lo conosce ma invece ognuno da casa sua può fare questo semplicissimo esperimento la luna l'ombra della terra si proietta in certi momenti sulla luna quando noi vediamo la luna come una falce è perché c'è l'ombra della terra proiettata sulla luna l'ombra della terra proiettata sulla luna è sempre circolare c'è un solo corpo che proietta un'ombra che è sempre circolare qualunque sia la posizione perché la luna sorge e sale su e poi tramonta e l'ombra della terra è sempre circolare dice aristotele non c'è niente da fare ragazzi soltanto una sfera proietta un'ombra che è sempre circolare e poi dopo aristotele viene tolomeo il più grande geografo dell'antichità il più grande geografo anche se pensava che la terra fosse al centro dell'universo e per tanti secoli anche i cristiani ci hanno creduto il più grande geografo tolomeo anche se come vedremo quando torneremo a parlare di cristoforo colombo parleremo di quanto è grande la terra di quant'è la circonferenza della terra tolomeo su quello ha fatto confusione ma non voglio anticipare tolomeo però una cosa la dice chiaramente la terra è rotonda vuoi la prova sei su una nave che si avvicina alla terraferma sulla terraferma ci sono delle montagne prima vedi la punta delle montagne poi man mano che ti avvicini le montagne crescono cominci a vedere la base e poi quando sei proprio vicino vedi anche la spiaggia dice tolomeo questo può succedere soltanto se ammettiamo che contrariamente a quello che noi crediamo la superficie del mare è leggermente incurvata altrimenti non si spiegherebbe questa cosa bene voi direte però giustamente va bene gli antichi lo sapevano ma e anche i medievali lo sapevano l'abbiamo visto prima ma siamo sicuri che c'è un passaggio diretto nessuno ha mai messo in dubbio queste cose la Bibbia cosa dice e allora fermiamoci su questo perché è verissimo che i primi cristiani non tutti i dotti del medioevo che è durato mille anni ma i primi cristiani qualche problema con questo fatto della terra rotonda ce l'hanno avuto perché se uno legge la Bibbia nella Bibbia non viene fuori che la terra è rotonda non viene fuori niente di chiaro però nella Bibbia ci sono alcuni passi che con tutta la buona volontà non quadrano mica tanto con l'idea che la terra sia una sfera la Bibbia teniamolo presente è un insieme di opere scritte nell'arco di parecchi secoli nel mondo ebraico c'è tutta dentro la tradizione storica e sapienziale di un piccolo popolo che non era un popolo dalla mentalità scientifica gli ebrei non erano i greci gli ebrei hanno una mentalità allegorica immaginaria religiosa e nei loro libri cioè nella Bibbia non si preoccupano di verità scientifiche parlano un linguaggio di un altro tipo vi faccio qualche esempio per capire come mai i primi cristiani che sapevano dalla scuola che la terra è rotonda e quando leggono la Bibbia fanno un po' fatica a mettere d'accordo questa cosa con quello che hanno imparato a scuola perché nella Bibbia per esempio ogni tanto ci sono dei passi in cui che Dio li perdoni loro dicono i quattro angoli della terra e voi capite che i quattro angoli della terra se uno lo prende alla lettera nell'Apocalisse per esempio Apocalisse 7 1 poi vidi i quattro angeli essi stavano in piedi ai quattro angoli della terra dice qualcuno dei primi cristiani vuol dire che la terra ha quattro angoli cosa ci vengono a dire i greci che è una sfera dove li ha quattro angoli la sfera ma soprattutto quello che si trova di più nella Bibbia è l'immagine del cielo come una tenda piantata sulla terra ricordiamoci che gli ebrei sono un popolo di pastori sono un popolo seminomade per loro la tenda è un'immagine estremamente familiare Salmo 104 hai disteso il cielo come una tenda ancora il profeta Isaia non avete capito come è stato fondato il mondo Dio siede sulla cupola che copre la terra di lassù gli uomini sembrano formiche egli distende il cielo come un velo lo dispiega come una tenda dove abitare allora i primi cristiani leggono questi testi e dicono beh se la terra ha quattro angoli e il cielo è come una tenda e la terra dove si pianta la tenda dove si pianta in piano con i suoi quattro picchetti ai quattro angoli quindi tra i primi cristiani c'è qualcuno che dice vuol dire che la terra è piatta e sopra Dio ha messo il cielo come una tenda c'è perfino un autore nei primi secoli del cristianesimo si chiama Cosma Cosma Indicopleuste che in greco scrive su questa faccenda e prova perfino a immaginare fa anche dei disegni ci sono dei disegni nei codici delle sue opere di questo cielo teso come una tenda sopra una terra che a questo punto è piatta sto parlando dei primi cristiani e non a caso ho sempre insistito i primi cristiani tenete conto di cosa hanno in testa i primi cristiani i primi cristiani che vivono di persecuzioni hanno un atteggiamento estremamente ostile verso la civiltà in cui vivono i primi cristiani sono convinti che loro hanno dentro una verità nuova e che tutte le verità di prima è tutta spazzatura da buttare via i primi cristiani sono convinti che i filosofi greci e gli scienziati greci bruceranno all'inferno e che tutte le cose che loro credevano sono false come i loro falsi dei e quindi in quest'epoca in cui il cristianesimo è molto aggressivo è molto sprezzante verso tutta la civiltà antica appunto si può trovare qualche autore cristiano che dice la terra è piatta piccola parentesi la perdonerete al medievista che vi sta parlando questi pochissimi autori che dicono la terra è piatta non sono autori medievali sono autori antichi siamo ancora nell'antichità quando è la tarda antichità quando il cristianesimo sta venendo fuori nella tarda antichità qualche autore che ha detto l'ho letto nella Bibbia la terra è piatta c'è stato se non che non dura niente perché nello stesso mondo cristiano questi che leggono la Bibbia alla lettera e che si mettono a discutere sulla forma della terra a un certo punto cominciano a risultare imbarazzanti tenete conto che l'atteggiamento dei cristiani che si considerano fuori dal mondo ostili al mondo ostili alla civiltà in cui vivono non dura mica granché basta che arrivi Costantino quando arriva Costantino e finiscono le persecuzioni e l'impero comincia a proteggere i cristiani e pian piano tutta la società romana e greca diventa cristiana allora è finita con questa storia di contrapporsi alla civiltà classica non è più tempo di contrapposizioni e allora i più importanti padri della chiesa si preoccupano si preoccupano perché questi cristiani che vanno in giro dicendo la Bibbia dice così la terra è piatta fanno una figura grottesca e i padri della chiesa non hanno voglia di dare l'impressione che i cristiani sono una manica di ignoranti analfabeti potrà sembrare un'espressione forte ma è quello che dicono loro ve ne cito uno l'ho già citato nei giorni scorsi perché è uno dei pensatori che hanno influenzato più di tutti il pensiero medievale Sant'Agostino fine del quarto inizio del quinto secolo Sant'Agostino si pone proprio questo problema c'è qualche cristiano che si mette a discutere con gli scienziati e a dire che la terra non può essere rotonda perché nella Bibbia c'è scritto che ha quattro angoli e Sant'Agostino dice io la Bibbia l'ho letta non c'è niente di preciso sulla forma della terra è chiaro che al Signore non importa niente della forma della terra lui l'ha creata noi ci abitiamo ma non è un problema non è una verità di fede è ridicolo che noi cristiani ci mettiamo a discutere di queste cose dal punto di vista della salvezza la forma della terra non importa niente a nessuno dice Sant'Agostino è una di quelle tante cose che dobbiamo lasciare agli specialisti e credere agli specialisti perché non c'è un dogma su questo e Sant'Agostino dice questo ve lo cito spesso un pagano si intende della terra e dei cieli e del movimento delle stelle e questa conoscenza la possiede con certezza perché viene dalla ragione e dall'esperienza se permettetemi fermo un attimo su questa coppia che rimarrà centrale nel pensiero medievale come fai tu a sapere le cose ci sono due modi uno è l'esperienza l'ho provato ho toccato con mano l'altro ancora meglio perché è più nobile non hai bisogno di far l'esperimento ci arrivi ragionando l'altro modo è quello che ti dice la tua ragione e dunque continua Sant'Agostino per uno che non è credente è offensivo è spiacevole sentire un cristiano che dice stupidaggini su queste cose pretendendo che quello che dice è basato sulle sacre scritture e Sant'Agostino continua dovremmo fare tutto quello che possiamo per evitare una situazione così imbarazzante ed evitare che i non credenti vedano solo ignoranza nei cristiani e ridano di noi queste cose Sant'Agostino le scrive in un libro che si intitola De Genesi Ad Literam cioè sull'interpretazione letterale della Genesi in cui Sant'Agostino dice non bisogna interpretarla alla lettera la Genesi sono immagini sono metafore non ha nessun senso interpretarla alla lettera e infatti Agostino nella stessa opera quando parla della terra dice vabbè la terra è un globo è ovvio che è un globo con una faccia illuminata dal sole e una faccia in ombra e Sant'Agostino si preoccupa anche di dire quando la Bibbia descrive la tenda si tratta di una metafora non dovete prenderla alla lettera bene allora allora tutti sapevano che la terra era rotonda era rotonda beh piano perché c'è sempre un problema ci sono quelli che si occupano di queste cose e che ci ragionano su ci sono i dotti e poi ci sono anche gli altri ci sono anche gli ignoranti gli ignoranti che magari mai nella loro vita si sono preoccupati di questi problemi ma la prima volta che sentono dire che la terra è rotonda dicono e come mai io non la vedo mica rotonda la vedo piatta gli ignoranti ci sono e nel medioevo è un tema che viene fuori spesso proprio questo noi dotti lo sappiamo che la terra è rotonda certo ogni tanto con gli ignoranti bisogna avere pazienza bisogna spiegarglielo nel dodicesimo secolo esce un trattato di un teologo che si chiama Guglielmo di Consch è un trattato di filosofia in cui c'è un capitolo che si intitola la forma della terra questo teologo del dodicesimo secolo siamo 300 anni prima di Cristoforo Colombo si pone il problema che noi dotti lo sappiamo che la terra è rotonda ma come dobbiamo fare per spiegarlo agli ignoranti e allora immagina un dialogo è un dialogo tra un filosofo e un laico tra un teologo dotto e uno che non essendo un uomo di chiesa poveretto non ha mai letto un libro il laico in questo che fa la figura dello scemo a cui si spiegano le cose come stanno è il duca di Normandia perché evidentemente non sono soltanto i poveri anche i duchi hanno altro da fare nella vita che preoccuparsi della forma della terra e quindi il teologo chiacchiera col duca e il duca gli dice ho qualche dubbio sulla forma della terra ma davvero è rotonda come dite voi io non la vedo mica e il teologo gli risponde certa gente è come gli animali perché si fida delle sue sensazioni piuttosto che della ragione diciamolo diciamolo fra parentesi nel medioevo sono innamorati della ragione i dotti del medioevo parlano continuamente della ragione hanno questa fiducia inspiegabile nell'uomo sono convinti che se l'uomo si mette lì e ragiona può venire a capo di tutto e che quindi basta ragionare e dice il filosofo appunto certa gente come gli animali non sa usare la ragione e quindi dice che la terra è piatta perché quando vai in giro non si accorge che è rotonda e ho capito che se vai in giro non ti accorgi che è rotonda ma ragiona dice il filosofo dodicesimo secolo e gli fa un ragionamento se la terra fosse piatta sono un po' complicati questi ragionamenti queste dimostrazioni ma vi infliggo ancora anche questa se la terra fosse piatta immagina una città posta nell'estremo oriente appena sorge il sole è già mezzogiorno perché il sole è già subito sopra la verticale quindi in quella città fra l'alba e mezzogiorno passerebbe un attimo poi prima del tramonto hai voglia perché il sole c'è ancora tutto invece dice il filosofo ci risulta che l'intervallo fra l'alba e mezzogiorno è uguale in tutto il mondo di conseguenza la terra non è piatta il caso di questo trattato che vi ho menzionato potrebbe farci pensare che ci fosse come dire una spaccatura netta i dotti sanno che è rotonda tutti gli altri sono convinti che è piatta non è proprio così è che tutti gli altri giustamente come molti di noi prima di stasera non si erano mai preoccupati di questo problema e non ci pensano tanto ma c'è nel medioevo un chiaro sforzo di come dicevano loro volgarizzare cioè rendere comprensibili anche agli ignoranti le cose più importanti nel medioevo c'è un libro famosissimo è un libro di viaggi immaginari non è come il libro di Marco Polo che magari abbellisce anzi abbellisce molto però insomma lui c'è andato in Cina il libro di cui vi sto per parlare si chiamano i viaggi del cavaliere Mandeville sono proprio inventati il cavaliere Mandeville non è mai esistito però descrive questo libro un'infinità di viaggi nel mondo e racconta com'è fatto il mondo è un libro tanto per cambiare di enorme successo nel corso del medioevo nel 3-400 viene tradotto in tutte le lingue a costo di annoiarvi vi darò anche la cifra delle edizioni a stampa viene stampato appena inventano la stampa entro l'anno 1500 fanno 35 edizioni a stampa di questo libro parentesi vedete come comoda questa cosa uno vuole sapere quali libri erano più popolari quali libri erano più letti vai a contare le edizioni a stampa e così hai la prova provata che un libro lo leggevano tutti nei viaggi di Mandeville si racconta che i navigatori quando vanno in giro per i mari e vanno verso sud a un certo punto arrivano in dei posti dove non si vede più la stella polare è un ragionamento che abbiamo già fatto lo faceva già Aristotele ma qui lo ritroviamo in un libro medievale e soprattutto in un libro scritto per il grande pubblico un best seller se volete tant'è vero che io adesso ve lo cito direttamente nella traduzione italiana medievale dice l'autore appunto i navigatori che vanno a sud dopo un po' non vedono più la stella polare per la quale ragione si può comprendere che il mondo si è di rotonda forma e questo appare notate bene e questo appare per esperienza e per sottile indagazione è ancora sempre la coppia di Sant'Agostino mille anni prima ci sono due modi per sapere le cose esperienza far l'esperimento e sottile indagazione ci penso su e ci arrivo e continua Mandeville che se si trova a passaggio da nave ed è gente che volessero andare cercando il mondo se li potrebbe andare con navigli intorno al mondo siamo 150 anni prima di Cristoforo Colombo più o meno naturalmente Mandeville specialmente nelle versioni tradotte nelle lingue volgari come dire usa un linguaggio un po' grossolano comprensibile a tutti lui vede la terra rotonda e però errore che non so se lo facciamo anche noi forse inconsciamente sì Mandeville dice sì c'è il sopra e c'è il sotto se si gira e si va verso sud si va circolando la rotondità della terra e del mare perde sotto il nostro paese ed è qua noi stiamo di sopra nel nostro paese ed è qua e se andiamo a sud andiamo sotto ma non succede niente se andiamo sotto va tutto bene lo stesso e dice Mandeville però certo che sembra strano perché gli ignoranti ti dicono ma se vai sotto poi cadi alla grossa gente notate la grossa gente la gente grossa è la gente che non è sottile è la gente che non sa ragionare alla grossa gente pare che non si possa andare sotto terra e che se cascaria verso il cielo de sotto ma questo non poteria essere altramente che se noi cascassimo della terra dove noi siamo sopra de loro in altre parole non è che noi siamo noi siamo sopra e loro sotto ma dal punto di vista loro siamo noi che siamo sotto noi non caschiamo mica verso l'alto no? e neanche loro cascano verso l'alto è un po' complicato da spiegare ma il concetto è abbastanza chiaro a questo punto siamo entrati in un discorso che non c'entra più con la terra piatta perché come vedete che la terra è rotonda non c'è proprio la minima discussione possibile però siamo entrati in un discorso che c'entra lo stesso e anche se non c'entrasse mi va di farvelo e quindi ve lo faccio comunque dall'altra parte del mondo chi c'è? ci sta qualcuno dall'altra parte del mondo agli antipodi anzi noi diciamo gli antipodi ma è un termine che viene inventato già nell'antichità per indicare non un luogo ma per indicare delle persone gli antipodi vuol dire quelli che stanno dall'altra parte dei nostri piedi noi abbiamo i piedi ben piantati in terra e vai giù 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 sbuchi dall'altra parte chi ci trovi? gli antipodi che stanno con i piedi per aria naturalmente esistono gli antipodi nell'antichità e nel medioevo non c'era andato nessuno dall'altra parte del mondo quindi l'esperienza non gli serviva l'unico modo per sapere se ci poteva essere qualcuno dall'altra parte del mondo era di provare a ragionarci su e per secoli nell'antichità e nel medioevo i dotti si sono divertiti da matti a provare a dimostrare che qualcuno ci poteva essere oppure al contrario no è impossibile non ci può essere nessuno già gli antichi quali erano gli argomenti di chi diceva no non ci può essere nessuno dall'altra parte del mondo un argomento lo abbiamo già sentito era quello della grossa gente della gente che non sa ragionare non ci può essere nessuno dall'altra parte del mondo perché cascherebbero giù questo ragionamento lo facevano già gli ignoranti nell'antichità c'è una pagina di Plinio il Vecchio nella storia naturale che discute di questo primo secolo Plinio il Vecchio dice la terra è rotonda lo sanno tutti invece che esistano gli antipodi cioè che ci sia della gente dall'altra parte è una cosa su cui c'è un grosso conflitto notate i termini fra i letterati e il volgo perché il volgo dice Plinio che è un letterato chiaramente e ci tiene a non essere uno del volgo il volgo dice se c'è qualcuno dall'altra parte perché non cadono giù e Plinio dice esattamente come dirà Mandeville 1300 anni dopo ma è ridicolo pensare che se sono dall'altra parte cadano giù come sarebbe ridicolo pensare che cadiamo giù noi verso l'alto nessuno cade giù la legge di gravità non l'avevano ancora calcolata ma che stiamo tutti attaccati alla terra questo l'avevano capito perfettamente con l'arrivo però del cristianesimo la discussione sull'esistenza di uomini dall'altra parte della terra diventa più serrata perché ci sono dei nuovi argomenti da tenere presenti e a quel punto l'idea che ci possa essere della gente dall'altra parte del mondo comincia a sembrare più difficile ci sono due ragioni più di uno anzi beh un ragionamento scusate adesso ho un po' percorso i tempi ma se era un argomento che usavano già anche gli antichi ve lo sbrigo in fretta già gli antichi dicevano come è fatto il mondo vabbè ai poli fa un freddo cane poi c'è una zona temperata dove abitiamo noi per fortuna e in mezzo fa un caldo da morire all'equatore c'è un caldo torrido siccome non c'era mai stato nessuno gli antichi a un certo punto si convincono che all'equatore fa un tale caldo che non ci può passare nessuno in mezzo fin qui niente di male ma poi arrivano i cristiani e i cristiani dicono tutti gli esseri umani discendono da Adamo e Adamo è stato creato in un posto preciso in Palestina poi da lì il genere umano si è diffuso ma come facevano ad arrivare dall'altra parte del mondo se in mezzo c'è la zona torrida dove c'è un calore bruciante e nessuno può passare voi capite noi dobbiamo sempre cercare di immaginare questa gente che non ha modo di saperlo per esperienza che deve provare a ragionarci su e ci ragiona su in base agli elementi che ha tutti gli uomini discendono da Adamo attraversare l'equatore è impossibile perché lì si brucia e quindi non ci è andato nessuno dall'altra parte e quindi non ci può stare nessuno e poi c'è un secondo motivo il mondo è coperto in parte di terra emersa e in parte di acqua io spero che mi state sempre seguendo lo so che sono complicate queste cose ma insomma quest'anno vi ho fatto la scommessa di raccontare queste cose complicate ormai è troppo tardi per cambiare argomento quindi voi mi scuserete lo stesso ragionano i filosofi antichi e medievali il mondo è fatto di terra emersa e di acqua in che proporzione per moltissimo tempo hanno detto poca terra e tanta acqua aristotele e voi sapete che influenza che ha avuto aristotele per tutto il medioevo aristotele dice uno a dieci un decimo di terra emersa tutto il resto acqua le terre emerse sono piccole cicerone che non è un superstizioso medievale cicerone a un certo punto dice sì le terre emerse sono come delle macchioline sulla superficie della terra il resto è tutta acqua ma allora anche ammettendo che ci sia qualche macchiolina anche dall'altra parte come si fa a attraversare tutto quell'oceano questo lo pensano già gli antichi è impossibile poi arrivano i cristiani i cristiani leggono la bibbia nella bibbia c'è scritto che dio ve lo ricordate tutti prima creò le acque e la terra era interamente ricoperta dalle acque poi dio fece ritirare le acque per far venire fuori la terra emersa però insomma signori se fece ritirare le acque comunque è evidente che il grosso è coperto di acque e che la terra emersa è piccolissima per tutti questi motivi i filosofi antichi e i teologi medievali dicono non lo sappiamo con certezza ma secondo me dall'altra parte del mondo non c'è niente e poi arriva Cristoforo Colombo e con lui ci ricolleghiamo al nostro argomento di partenza e ci arriviamo anche a concludere qual è il vero problema per Colombo l'abbiamo visto che la terra è rotonda lo sanno tutti non ha bisogno di spiegare a nessuno che la terra è rotonda Colombo arriva e dice ecco cosa dice Colombo alla regina Isabella cos'è che si è messo in testa lui proviamo a ricordarci il contesto quella è un'epoca fine 400 in cui si fanno un sacco di soldi col commercio delle spezie ma davvero un sacco di soldi ci si fa il bilancio di uno stato col commercio delle spezie e le spezie vengono in oriente e le spezie per secoli si andava a prenderle in oriente le andavano a prendere i mercanti arabi poi le portavano ad orso di cammello fino all'Egitto e lì ci si imbarcava si attraversava il Mediterraneo pieno di pirati e si arrivava finalmente a Venezia o a Genova con queste spezie il costo era terrificante prima di Colombo ma non tanto tempo prima i portoghesi hanno scoperto che invece di infognarsi nel Mediterraneo e aspettare la carovana del Mar Rosso si può fare con la nave il giro dell'Africa fai il giro dell'Africa doppi il capo di buona speranza e arrivi in India e ci metti meno tempo e quindi sul carico di spezie ci fai un profitto molto maggiore e i portoghesi si arricchiscono Colombo va dal regina di Spagna e le dice io ho un'idea che ci farà guadagnare un sacco di soldi perché ho pensato una rotta molto più breve per arrivare in Oriente dice Colombo siccome la terra è rotonda se uno parte dalla Spagna verso Occidente fa tutto il giro e arriva in Oriente e così freghiamo i portoghesi allora non è vero niente della storia della commissione di Salamanca i dotti vediamo quello che noi sappiamo è che Colombo presenta questo progetto alla regina con tutti i calcoli quanto tempo ci vuole quanto è lunga la strada e la regina siccome si tratta di spendere parecchi soldi fa quello che probabilmente si farebbe anche oggi nomina una commissione una commissione di specialisti che devono valutare il progetto di Colombo non sono i dotti dell'università di Salamanca è una commissione di esperti che si riunisce varie volte dopo qualche mese danno un primo parere negativo ma siccome Colombo è molto raccomandato e ha molti amici influenti alla commissione dicono un supplemento di indagine pensateci ancora un po' ci pensano parecchi anni si riuniscono qualche volta a Salamanca qualche volta a Cordova dove c'è la corte che si sposta cosa dice la commissione la commissione dice questo progetto di Colombo è molto ardito ci sarebbero dei problemi ovviamente non c'è più bisogno che ve lo dica che nessuno nella commissione si alza per dire che la terra è piatta perché nella commissione dicono si lui vuole andare di là ma questo fatto della zona torrida però poi è vero che non siamo proprio sicuri che sia così torrida e poi magari stando solo pazienza questo lasciamo perdere il vero problema è la commissione che dice Colombo ci ha dato certe misure secondo lui il viaggio dura tanto e si può fare ma noi che abbiamo letto gli scienziati greci abbiamo letto Eratostene che ha calcolato la circonferenza della terra a noi i calcoli di Colombo non ci torna mica tanto secondo noi non ci arriva è molto più lungo il viaggio di quello che dice Colombo perciò noi consigliamo di non spendere soldi per questa roba il dramma col senno di poi è che avevano ragione loro Colombo aveva completamente sbagliato i calcoli non è ancora chiaro quanto in mala fede e quanto perché ci credeva così tanto ma è stato ricostruito il modo in cui Colombo ha fatto i suoi calcoli che distanza c'è dalla Spagna all'estremo oriente facendo il giro da occidente Colombo ha fatto di tutto ha letto Marco Polo ha provato a calcolare quanto è grande la Cina secondo Marco Polo e si è tenuto largo perché se la Cina è molto grande si spinge molto in là e quindi ci si arriva prima per mare Colombo ha considerato tutti i calcoli che esistevano sulla circonferenza della Terra e ha preso il più basso e l'ha dato per buono poi ha barato sulle misure c'erano delle misure espresse in miglia marittime lui ha fatto finta che fossero miglia terrestre che sono più corte insomma alla fine Colombo presenta un calcolo in cui dice la distanza dalle Canarie già perché anziché calcolare dalla Spagna già che c'è calcola dalle Canarie che sono già un po' più in là risparmia dice Colombo la distanza dalle Canarie all'estremo oriente sono 4500 km lui si esprime in miglia ma insomma comunque corrisponde a questo 4500 km sapete quant'è davvero la distanza dalle Canarie all'estremo oriente tenetevi forte 22.000 km in altre parole Colombo parte e normalmente dovrebbero morire tutti di sete dopo un mese nel pieno dell'oceano è salvato dal fatto che va a sbattere contro l'America che nessuno sapeva che c'era ed essendo lì a metà strada Colombo arriva a toccare terra e quindi alla fine ha avuto ragione lui evidentemente e infatti la principale cosa che gli scienziati del Cinquecento imparano dalla scoperta dell'America e ci eravamo sbagliati credevamo che le terre emerse fossero poche e che l'insieme del globo fosse coperto d'acqua invece non è vero abbiamo scoperto cito da un trattato cinquecentesco che non c'è quella gran quantità d'acqua che si credeva bene ma se le cose sono andate così e io ormai ho solo più cinque minuti ma vediamo di dire ancora qualcosa rapidamente com'è che noi abbiamo invece tutti visto i quadri o le vignette di Colombo con i dotti di Salamanca il mappamondo com'è che abbiamo in testa questa idea dei dotti di Salamanca che ignorantissimi sostengono che la terra è piatta e quindi Colombo non ce la può fare chi l'ha inventata questa frottola qui si sa il colpevole o meglio sì c'è anche un nome e cognome che adesso vi farò ma diciamo più in generale è colpa degli americani i quali americani devono per forza credere che Colombo ovviamente ha cambiato la storia del mondo e quindi Colombo è un grande eroe che ha combattuto contro l'ignoranza e la superstizione questa immagine di Colombo come grande eroe che mette fine ormai sono tre sere che lo ripeto alle tenebre del medioevo e porta la luce della conoscenza agli americani importa in modo particolare all'inizio dell'ottocento c'è uno scrittore americano che si chiama Washington Irving molto famoso in America meno da noi che scrive un libro che si intitola proprio La vita e i viaggi di Cristoforo Colombo Washington Irving sa che ci sono stati dei dotti a Salamanca che hanno criticato Colombo e che non volevano dargli i soldi non sa nient'altro descrive questa scena meravigliosa sono pagine e pagine straordinarie con tutta questa coalizione di ignoranti che cerca di fermare il progresso della verità e quindi tira in ballo gli antipodi e la tenda della Bibbia e il profeta Isaia come se i dotti del quattrocento fossero ancora fermi come mille anni prima a discutere di quelle cose lì e crea questa immagine meravigliosa il libro in America lo leggono tutti questa immagine di Colombo e dei dotti di Salamanca si imprime per sempre nella memoria collettiva in America la si ritrova tuttora nei libri di scuola ed il resto il Campidoglio di Washington ha delle porte di bronzo Columbus Doors dove è proprio immortalato nel bronzo Colombo che eroicamente discute con i dotti di Salamanca e quindi questa immagine si radica per sempre Colombo rappresenta la modernità illuminata contro la superstizione e l'ignoranza del passato chiudiamo ma diciamo ancora una cosettina allora lo sapevano tutti che la terra è rotonda d'accordo ma allora chi ha scritto questa frase ecco provate a indovinare quando è stata scritta questa dimostrazione sentite gli esseri umani hanno bisogno di una superficie su cui vivere che in genere deve essere piatta il creatore è onnisciente quindi lo sa benissimo che noi abbiamo bisogno di una superficie piatta per vivere il creatore è infinitamente saggio e quindi naturalmente ha dato alle sue creature tutto ciò di cui hanno bisogno sottinteso una superficie piatta su cui vivere questa è una prova teologica che la terra non è una sfera io sono abbastanza sicuro che se avessi cominciato la lezione leggendovi questo brano e dicendo che era di uno dei dotti di Salamanca probabilmente sarebbe andato bene a tutti questo brano è di un signore americano dell'ottocento che si chiama William Carpenter che nel 1885 ha pubblicato a Baltimora a sue spese va detto a onore dell'editoria americana un libro intitolato le cento prove che la terra non è una sfera in altre parole è la prima volta nella storia che viene scritto un libro per dimostrare che la terra è piatta e siamo in America alla fine del 1800 queste cento prove sono fantastiche cercatelo in internet c'è tutto e leggetevelo la prima prova è questa se uno sale con un pallone e guarda giù si vede benissimo che è piatta allora appunto come dire coda all'ultimissima cosa William Carpenter non è solo alla fine dell'ottocento nasce in America la società della terra piatta che esiste ancora andate a cercare c'è il sito internet Flat Earth Society sono alcune migliaia di persone convinte che la terra è piatta e che ci fanno credere che è rotonda perché ci fanno credere tutto quello che vogliono ci hanno fatto credere che siamo andati sulla luna è tutta una montatura in altre parole oggi forse per la prima volta esiste gente che crede davvero che la terra è piatta e lo crede perché è convinta che tutto quello che ci dicono è un inganno che qualunque cosa ci dicono bisogna pensare che è falsa perché c'è la congiura per ingannarci ora io mentre pensavo a queste cose mi sono detto sembra quasi quello che io ho fatto in queste sere di dire ecco io spero di non aver fatto questo in queste sere io non ho detto qualunque cosa vi dicono state attenti perché è falsa però spero di avervi detto qualunque cosa ci dicono non è che ci dobbiamo credere solo perché ce l'hanno detta e se è una cosa a cui teniamo e a cui abbiamo voglia di come dire di credere sul serio ecco non basta che ce l'hanno detta e che l'abbiamo letta ma nei limiti delle nostre possibilità bisogna cercare di andare a controllare grazie e naturalmente all'anno prossimo grazie a tutti grazie gott del mondo grazie all'anno prossimo Grazie.